Giulia si svegliò la mattina di un nuovo giorno, come aveva sempre fatto, ogni giorno della sua non particolarmente lunga vita. Di solito questa ragazza si svegliava di umore molto felice, sempre pronta a discutere i piani per la giornata, a raccontare ciò che aveva sognato, e, in generale, le piaceva essere energica per l'intera giornata. Questa sua abitudine rendeva la vita molto difficile all'anziano nonno, che nella sua vecchiaia era arrivato ad apprezzare la pace e la tranquillità più di ogni altra cosa, e piaceva alla nonna, che alla stessa veneranda età del nonno, era pronta a parlare con chiunque di qualsiasi cosa gli piacesse. Ed era molto soddisfatta della nipote, che il più delle volte condivideva l'umore mattutino della nonna. Ma oggi il primo sentimento di Giulia non era la gioia, oggi era la determinazione. Finalmente osava chiedere che cosa la preoccupava da tanto tempo. Era impossibile ottenere una risposta dalla mamma. Quella donna di successo, ma molto riservata, era impegnata per la maggior parte del tempo nel suo importante lavoro. Così Giulia decise che la nonna, dolce e incondizionatamente affettuosa, era la persona giusta per interrogarla. Ma l'interrogatorio deve essere eccezionalmente morbido e gentile. Molto più di una madre severa e distante. Inavvicinabile. Giulia si alzò dal letto. Uno specchio a figura intera pendeva leggermente di lato. La ragazza voleva metterlo proprio di fronte al letto. Ma la nonna, che combinava in modo divertente una sincera fede cristiana con un'altrettanto forte superstizione, le disse severamente che portava male mettere uno specchio di fronte al letto. Giulia obbedì. E così il nonno. E anche la mamma. Capì subito che era meglio non discutere con la nonna, solitamente morbida, su alcune cose che per lei erano fondamentali. Così ogni mattina, dopo aver fatto solo mezzo passo dal letto, Giulia si vedeva. Non era cambiata molto dalla sera precedente. La stessa adolescente che ieri si era addormentata nel letto la fissava ancora dalla superficie specchiata. Una ragazza di 16 anni, con due sottili trecce di capelli rosso scuro visibilmente scompigliate dal sonno e gli occhi castani inclinati come se, a differenza della sua padrona, non fosse del tutto sveglia. Giulia era alta per la sua statura. Una ragazza con braccia e gambe sproporzionatamente lunghe. Ma tutto sommato era una ragazza dolce e carina, con un ampio sorriso, occhi gentili, anche se un po' sornioni, e lentiggini appena percettibili in questo periodo dell'anno. «Buongiorno!» gridò Giulia a gran voce, uscendo dalla sua stanza e dirigendosi verso il bagno. Lei, la madre e i nonni, vivevano in una piccola casa a due piani a un'ora di macchina dal centro città. I suoi nonni vivevano separatamente in un piccolo appartamento con una camera da letto e sua madre era nata e cresciuta lì. Ma questo avveniva prima della nascita di Giulia, quando la neonata, che allora aveva già i capelli rossi, aveva un anno e mezzo. Sua madre aveva comprato questa casa di mattoni a due piani per due famiglie. In realtà, due famiglie erano composte da loro quattro, Giulia, la mamma e i genitori della mamma. Il nonno brontolava dicendo che era troppo grande e costosa e che se la mamma avesse avuto bisogno di aiuto con la figlia, avrebbe potuto portare Giulia a vivere con i nonni. Ma la mamma si risentì improvvisamente per le parole del nonno e fece comunque a modo suo. «Buongiorno, cara!» gridò forte la nonna dalla cucina al piano terra. Nonostante avesse già 65 anni, né la sua capacità polmonare né la sua mobilità quasi giovanile la cambiavano. «Lavati in fretta e andiamo a fare colazione. Oggi è una giornata importante!» «Sì, lo è!» mormorò Giulia tra sé e sé. Scese in cucina mezz'ora dopo, aggiustandosi le maniche del dolce vita scuro. Oggi era davvero un gran giorno per lei, ma non nel modo in cui sua nonna aveva pensato, o meglio, anche in quel senso, ma in modo diverso. In ogni caso, era un giorno importante per due motivi. Il nonno guardò Giulia al di sopra degli occhiali e aggrottò le sopracciglia in modo severo. Suo nonno, il signor Ray, era un uomo alto, forte e dalle spalle larghe, nella sua lontana giovinezza un giovane molto bello. Aveva capelli biondo scuro, ora per lo più grigi, e un mento liscio e volitivo. Ma, come amava ridere sua nonna, la sua vita matrimoniale lo aveva fatto ingrassare. Per questo Giulia non ricordava il nonno senza quel suo pancione. Ciò non toglieva nulla alla forza fisica del signor Ray e alla sua capacità di gestire qualsiasi problema domestico. In mancanza di altri uomini in famiglia, la casa era interamente sulle spalle del nonno. Se c'era qualcosa da aggiustare, martellare, sistemare, spostare, non c'era compito che non potesse affrontare. E a volte sembrava a Giulia che tale responsabilità fosse ciò che rendeva suo nonno più giovane, almeno fisicamente. Ma guardatela! Ray espirò, voltandosi verso la moglie. Anche se cercava di essere severo, e il più delle volte ci riusciva, non poteva fare a meno della tenerezza incrollabile che provava per la sua unica nipote. Quella volpe stava sicuramente tramando qualcosa. Non è vero, disse Giulia, sedendosi a tavola, dove c'erano già il tè e dei bei piattini con panna acida e marmellata. Anche la nonna rise, mettendo davanti alla nipote un piatto di frittelle appena sfornate e persino calde. Giulia sorrise e non replicò. Il nonno, come sempre, indovinava il suo umore in modo inequivocabile. Era un'abilità che aveva imparato fin dalla prima infanzia. La nipote, a differenza della madre, era una bambina svelta e attiva. E mentre la nonna le correva dietro e si preoccupava, Ray riusciva a capire con un solo sguardo cosa stesse combinando la sua amata Giulia e accoglierla sul fatto. La nonna, a differenza sua, era una donna di statura piuttosto piccola. Fin da bambina, Giulia aveva appreso che la nonna aveva molti figli oltre alla madre. Ma poiché lei stessa era piccola e i suoi bambini erano così piccoli, non vivevano più di un giorno. Giulia aveva ormai 16 anni e voleva ancora crederci piuttosto che rendersi conto delle vere ragioni per cui la mamma era l'unica figlia della famiglia. Sua nonna, la signora Sandra, era un'anziana donna bassa ma vivace, come la nonna del famoso cartone animato che prima preparava torte per la nipote e poi vinceva con ampio margine la gara di sci. Eppure a volte c'era quella tristezza all'angolo delle labbra ancora per lo più sorridenti, che ricordava in modo particolare che purtroppo nella vita non tutto è roseo come vorremmo. Questo di norma aveva un effetto molto forte su Giulia. E ogni volta, ricordando il sorriso di questa nonna, la ragazza si fermava a pensare a cosa e come voleva fare. Come vanno i tuoi progetti? Chiese seriamente il nonno, anche se a dire il vero capiva poco di quello che faceva sua nipote. Ma informarsi, dirle di fare del suo meglio e augurarle buona fortuna lo considerava obbligatorio. Se non ad ogni colazione, di sicuro ad ogni seconda colazione. Non c'è problema. Giulia annui, arrotolando un sottile pancake in un tubo. Sto finendo una presentazione su uno dei giardini botanici, spiegando perché è importante preservare questi monumenti naturali. E poi tornerò dai miei animali. Riesce a scrivere al computer così velocemente che è come suonare il pianoforte. La nonna che ha aiutato la nipote si è vantata. Giulia la intervistò. Era come se la nonna fosse una comune passante preoccupata per il destino di un piccolo giardino botanico. Anche il nonno fu coinvolto, e il suo discorso severo piacque persino al responsabile di Giulia. Ma era ancora un capofamiglia troppo orgoglioso per dire apertamente quanto ammirasse la nipote. Sì, dovrebbe fare la musicista. Giulia sorrise un po' confusamente, osservando attentamente la nonna. La maggior parte delle volte la nonna era di buon umore, ed era propensa a parlare con la nipote solo se non era sotto pressione. Il nonno annuì con condiscendenza. Ben fatto, Giulia. Impegnati di più e farai bene, disse Ray. E Giulia sorrise in segno di assenso. Dopo la colazione, Giulia aiutò la nonna a sparecchiare, e andò in camera sua. Era la prima settimana di vacanze. Giulia aveva finito la decima classe. Anche se aveva lasciato la scuola per tre mesi interi, i suoi progetti nel club dei giovani naturalisti non avevano intenzione di finire, e stavano solo prendendo piede. Durante l'estate, quando sia i membri più giovani che quelli più anziani erano liberi, i giovani naturalisti avevano molto lavoro da svolgere. Giulia faceva parte del club fin dalla prima elementare, e poche attività la affascinavano tanto. Nonostante si trattasse di un club scolastico, facevano davvero molte cose. Studiavano i valori storici e culturali della loro regione. Facevano presentazioni, progetti vari, pubblicizzavano il loro lavoro, studiavano i problemi dello stato ecologico dell'ambiente naturale, e trovavano persino sponsor per la manutenzione o il restauro. A volte avevano animali che dovevano essere curati e tenuti in custodia prima di trovare un posto dove vivere. Giulia, invece, faceva spesso volontariato negli zoo. Non era solo un lavoro interessante, ma anche estremamente gratificante. Questo circolo a scuola ha ricevuto un piccolo sostegno finanziario dall'Università Agraria Locale per la sua attività e il suo successo. I partecipanti al circolo ricevevano alla fine della scuola un certificato di istruzione supplementare. Il certificato veniva preso in considerazione al momento dell'ammissione. E per Giulia, che in terza elementare decise di andarci, un tale documento non sarebbe stato superfluo. Così terminò la decima classe. Avrebbe compiuto 17 anni in estate. Mancava solo un anno all'ammissione. E, oltre a prepararsi attivamente per gli esami di stato, stava portando avanti il maggior numero possibile di progetti di viaggio. Oggi avrebbe dovuto inviare la presentazione del suo giardino botanico al curatore e, con un po' di fortuna, tenere una conferenza. Ecco cosa intendeva sua nonna quando diceva che oggi era il grande giorno. Giulia si mise al lavoro e, togliendo i pensieri inutili, lavorò davvero. Controllò più volte il testo, le immagini, le statistiche e alcuni aspetti tecnici. Il lavoro le piaceva. E Giulia era già contenta. Aveva fatto un bel po' di cose. Alla fine la ragazza inviò il lavoro al curatore e, prendendo il suo portatile, si diresse verso la stanza della nonna. Come tutti gli anziani che ne hanno la possibilità, Ray e Sandra vivevano in stanze separate. Le stanze dei nonni rispecchiavano completamente il tipo di persone che erano. Ray viveva in una stanza arredata in modo rigorosamente minimalista, dove non c'era nulla di superfluo e ogni cosa era al suo posto. La stanza della nonna sembrava una dimora accogliente, ma estremamente caotica e piena di cose diverse. Anche se la mamma le aveva dato il permesso di fare quello che voleva con la terra intorno alla casa, persino di piantare un giardino, ma senza il suo coinvolgimento, alcuni dei fiori più capricciosi erano rimasti nella stanza della nonna. Giulia sorprese la nonna proprio mentre stava togliendo le foglie appassite. Vedo che sta bene, anche se è fuori stagione. Giulia sorrise, osservando la nonna mentre scavava buche nel giardino e piantava fiori caduti e semi per far crescere qualcosa anche lei. La mamma le disse subito che aveva preso da sua nonna. Sandra non amava molto gli animali, ma era un'eccellente giardiniera. Era in grado di dare una seconda vita a un fiore appassito. Se Giulia era davvero come lei, la ragazza era fiera di sé. Non insultare il mio fiore. La nonna sgranò gli occhi. Il fiore sta bene. Giulia rise. Poi si sedette sul letto della nonna. Vuoi vedere la presentazione finita? Chiedilo tu. Immediatamente la nonna sorrise, dimenticando quanto fosse stata insultata la sua eterna favorita. La donna si tolse i guanti, si pulì le mani con un asciugamano e si sedette accanto alla nipote. Giulia accese rapidamente la presentazione e, recitando a memoria il suo discorso, iniziò a mostrare alla nonna il lavoro di quasi sei mesi di attività. Sandra ascoltò con attenzione, fece domande chiarificatrici, valutò l'aspetto della presentazione nel modo più rigoroso possibile. Ma, come ogni nonna, era l'ascoltatrice più favorevole di tutte alla nipote. Così, quando Giulia finì, scosse la testa con ammirazione. Che ragazza intelligente che sei, disse Sandra mettendole un braccio intorno alle spalle. Hai fatto un lavoro meraviglioso. Mi è piaciuto molto. Sì, grazie, nonna. Giulia sorrise sinceramente. Poi parlò con un po' meno sicurezza. In realtà volevo parlarti di una cosa. Sei davvero una volpe. Il nonno aveva ragione. Hai in mente qualcosa, disse la nonna con affetto. E il suo sorriso riportò la fiducia mattutina di Giulia. O forse era quel pizzico di tristezza che si nascondeva in un angolo del sorriso della nonna. Oggi ce n'era meno del solito. Ma Giulia in qualche modo ricordava che la nonna le aveva detto che odiava quando la sua vipera era triste. La sua famiglia la chiamava Vixen sia per il colore dei suoi capelli rossi, sia per la sua meravigliosa capacità di essere scaltra. Anche la mamma aveva i capelli rossi, ma era una donna schietta e non poteva essere furba. Giulia fece un respiro profondo prima di passare alla conversazione principale. Ho chiesto a mamma, ma non mi ha risposto. Stai cercando di rendermi complice di un crimine? La nonna ridacchiò, ma il suo sorriso divenne diffidente. Sandra aveva un grande rispetto per sua figlia. Giulia non solo amava e sebbene fosse una persona della vecchia scuola, sia lei che il marito avevano sempre ascoltato le opinioni della figlia adulta. Sì, quasi. Giulia annui e messo da parte il portatile, guardò la nonna dritta negli occhi. Si era preparata a questa conversazione leggendo articoli su come prendere l'iniziativa in una discussione e convincere le persone a dire ciò che si vuole sentire. Giulia voleva sentire la verità. Il suo tempismo era perfetto. Ora che la mamma sarebbe rimasta in viaggio per lavoro per un altro paio di giorni, Giulia non aveva intenzione di tirarsi indietro. Nonna, quest'estate compirò 17 anni. Non sono così giovane. Ho il diritto di sapere chi è mio padre. Ecco, l'ha detto. Le venne fuori ancora più dolcemente di quanto avesse previsto, ma sicura e decisa. Giulia era soddisfatta di sé. Guardò attentamente il volto della nonna e vide il sangue affluire dal suo viso. Sandra era un po' impallidita e il panico cominciava a serpeggiare nei suoi occhi verdi e sbiaditi, vicini alle pupille della vecchiaia. Giulia, fissandola negli occhi, attendeva esigentemente una risposta. Oh, volpe! Espirando pesantemente, Sandra parlò con sorpresa, portandosi una mano al cuore. Ja! Non posso rispondere a queste domande per te. È meglio che tu chieda a tua madre. Come ho detto, la mamma non vuole rispondere a questa domanda. Giulia interruppe la nonna, senza toglierle gli occhi di dosso. Sua madre era la terza figlia della famiglia. Sandra aveva avuto altri figli prima di lei e dopo di lei. Ma, come è stato detto, erano nati troppo piccoli per vivere più di un solo giorno. Quando nacque la mamma, una bambina forte e sana, la chiamarono Mila. E ora questa Mila era ben lontana dall'essere solo una bambina sana. Era una donna alta e bella, alla soglia del suo quarantesimo compleanno. Sempre impeccabile e sicura di sé. Aveva gli occhi verde chiaro, come quelli di sua madre, e una folta chioma di capelli ramati, che Mila pettinava sempre con cura fino a farli brillare come rame liquido. Suo nonno amava dirle che già da bambina Mila era una ragazza seria e intelligente. Giulia ci credeva facilmente. Sua madre, infatti, era una donna eccessivamente seria, oltre che intelligente e autoritaria. Mila lavorava in ospedale come vice primario del reparto di chirurgia e dedicava molto tempo al suo lavoro. Molto. Quasi tutto. Giulia l'aveva vista molto poco fin dalla sua prima infanzia. Mila aveva dato alla luce una figlia a vent'anni, prima ancora di laurearsi, e la cura della nipote era stata affidata a Ray e Sandra. Prima la mamma terminò gli studi e allo stesso tempo iniziò a lavorare sodo. Comprò alla famiglia una casa piuttosto costosa, in modo che Giulia fosse sotto la supervisione degli anziani e che i genitori fossero vicini e non avessero bisogno di nulla. Giulia non conosceva suo padre. Non che sapesse chi fosse o che non l'avesse mai visto di persona, ma non sapeva che tipo di uomo fosse, di per sé. Come si erano conosciuti lui e sua madre, cosa faceva, che aspetto aveva. Giulia pensava che se suo padre fosse morto, sua madre ne avrebbe parlato. Cosa poteva fare un uomo morto? Ma quando Giulia aveva chiesto per la prima volta di suo padre in età consapevole, quasi tre anni fa, sua madre aveva reagito in modo interessante. Mila non era generosa con le sue emozioni, essendo il tipo di genitore che esprimeva l'amore con regali costosi e qualsiasi altro bene materiale. Certo, Giulia e sua madre andavano in vacanza insieme, e la madre a volte era anche presente alle sue matinee all'asilo e poi agli eventi a scuola. Ma la maggior parte dell'educazione è stata fatta dai genitori della mamma. Giulia non ha mai provato rancore per la madre. Certo, a volte Mila era troppo occupata per venire prima ad abbracciare sua figlia. E c'erano settimane in cui Giulia non vedeva la madre per giorni interi, perché tornava a casa dal lavoro la sera tardi e se ne andava la mattina presto. Ma sua madre le dava sempre un brivido di pura gioia. Una donna forte, testarda e determinata, che non si lasciava mai ferire e faceva di tutto per il bene dei suoi cari. Forse l'amore per la natura le veniva dalla nonna, la severità e la raccolta dal nonno, ma la capacità di andare alla meta le veniva sicuramente dalla madre. Eppure c'era questo divario tra loro, un abisso chiamato padre. Da bambina, Giulia si trovava facilmente da una parte di quel canone, accanto alla mamma. Ma quando vedeva bambini con entrambi i genitori, immancabilmente si chiedeva Chi è il mio papà? E perché questo papà non è qui? Non riempirti la testa di banalità, le diceva la mamma correndo verso di lei con una coppa di gelato. Quando avevano tempo per stare da sole, Mila cercava di uscire con la figlia, non di stare a casa. E così funzionava. Non tutti hanno un papà, ma questo non è un male. Ma che grande nonno abbiamo? Perché abbiamo bisogno di un papà quando abbiamo una mamma, una nonna e un nonno? Pensò Giulia. Ma cosa potrebbe darle questo papà? Aveva una mamma meravigliosa che le regalava bambole, con cui poteva salire in braccio e ricevere baci e abbracci. C'era la nonna, che scavava in giardino con Giulia, e si occupava dei gatti che a volte si aggiravano nella loro proprietà. C'era il nonno, che le andava in collo, le insegnava ad andare in bicicletta, e in generale era un protettore e un aiutante. Il nonno di Giulia è un nonno così buono che anche tutti i membri della famiglia portano il suo cognome. La questione dell'assenza del padre dalla sua vita si è riproposta a Giulia all'età di 14 anni. Molto meno contenuta, chiese con fermezza alla madre di dirle chi fosse suo padre e cosa gli fosse successo. Ci furono capricci, urla, accuse. Mila sopportò tutto in silenzio, guardando la figlia infuriata. A Giulia sembrò persino che la madre non la giudicasse per queste intemperanze. Tuttavia la comprensione della madre non era sufficiente per la rivelazione, e si limitò a dire seccamente. Non tutti hanno la fortuna di avere un padre. Te l'ho già detto, e la mia risposta non è cambiata in sette anni. Ma io sì, dichiarò Giulia a caldo. E non mi piace questa risposta. Cosa intendi per non avere fortuna con i padri? Voglio saperlo. Giulia. La mamma la guardò con uno sguardo calmo e autoritario. Giulia conosceva bene quello sguardo. Ancora qualche parola e lei e la mamma avrebbero litigato di brutto. Basta così. Non cambierai nulla parlando. Ma voglio sapere. Il viso di Giulia si addolcì un po', mentre quello di sua madre si addolciva. Il volto della madre si addolcì un po'. Si avvicinò alla figlia e le mise un braccio intorno alle spalle. Tu hai un padre. Come tutti i bambini. Non vieni da una provetta. Mila ridacchiò, e Giulia sorrise ironicamente. Io ti capisco, ma tu devi capire me. Non voglio ripetere questa conversazione. Un paio di giorni dopo questa conversazione, sua madre permise a Giulia di andare a fare un'escursione di una settimana con il suo club di giovani naturalisti in una riserva naturale, dove la ragazza e gli altri impararono come prendersi cura degli animali feriti, come identificare un animale selvatico della riserva, o, forse, scappato dallo zoo, e come comportarsi con loro. Giulia ci teneva molto ad andarci proprio perché in seguito era stata leggermente promossa di grado, e poteva andare in gita con i ragazzi più grandi e partecipare alla cura degli animali che li raggiungevano. Nel suo club portava o portavano regolarmente animali feriti. Venivano curati e riportati in natura, oppure venivano aggiunti a zoo, santuari e canili. Giulia era felicissima. Eppure questa conversazione le lasciò un segno pesante. Obedendo alle parole della madre, non ne parlò più. Ma il pensiero di suo padre era così fisso nella sua mente che doveva essere sviluppato. Era importante sapere chi fosse il proprio padre. In quei due anni Giulia aveva trovato mille motivi per scoprire chi fosse. Ma era ovvio che non serviva parlarne con la mamma. Né con il nonno. Per qualche motivo Giulia aveva la sensazione che Ray non sarebbe stato felice di parlare di un uomo che, per qualsiasi motivo, non poteva far parte della vita di Giulia. Giulia non sapeva cosa fosse successo tra i suoi genitori, ma per qualche motivo aveva la sensazione che il nonno fosse profondamente ferito per la madre, motivo per cui era sempre pronto a sostenere e aiutare la sua mila. Se la nipote cominciava a chiedergli qualcosa, il nonno poteva arrabbiarsi tanto quanto la mamma. Quando Giulia aveva 14 anni, trascorse la sua infanzia osservando le famiglie in cui i bambini sapevano almeno chi era il loro papà, anche se non viveva con loro. Giulia non si sentiva abbandonata o sola, ma a poco a poco maturò in lei la domanda «Dov'è il mio papà?». Il nonno era gentile, ma il nonno era il papà della mamma, non di Giulia. Quando Giulia andò fiduciosamente verso la sua meta, e gradualmente divenne non solo una bambina che corre con i ragazzi nelle pozzanghere e cerca le rane, ma una ragazza sofisticata e molto bella, sembrerebbe che il ruolo del papà nella vita di una bambina non sia così significativo come nella vita di un ragazzo. Infatti, se la madre trasmette tutte le sue conoscenze e competenze femminili direttamente alla figlia, allora il padre in questo processo di educazione di una futura donna, sembrerebbe, non è necessario. Tuttavia, non è così. È il padre che deve dare un senso all'insegnamento della madre. Perché una ragazza ha bisogno di essere una donna? Perché ha bisogno di vestirsi, cucinare, amare? Perché la mamma era e sarà sempre un modello per lei, una donna di successo. La nonna era un esempio di accoglienza e calore familiare, la vera custode del focolare. Il nonno era un uomo abile ed economico, un uomo che ha fatto in modo che la casa non si sfaldasse. Era tutto bello e più che degno. Ma? Ma chi poteva solo proteggere, essere un pilastro e un sostegno? I padri davano alle figlie il permesso di amare e di essere felici in età adulta. Giulia non l'ha avuto, quindi si è portata dietro questo problema del padre per tutta la vita, anche se all'inizio lei stessa non se ne rendeva conto. Giulia decise quindi di adottare un approccio più sottile. Attraverso la nonna Sandra, che adorava ciecamente la sua unica nipote. C'era poco da negare alla sua piccola volpe. E Giulia non aveva dubbi che, se avesse posto la sua domanda con delicatezza ma nel suo modo esigente, la nonna non sarebbe stata in grado di respingerla. Inoltre, la nonna non aveva evidentemente tanto potere su di lei quanto ne aveva la mamma. E sarebbe stato difficile per lei reprimere Giulia. Naturalmente, poteva esserci una variante in cui la nonna stessa sapeva poco del padre di Giulia. Ma per qualche motivo la ragazza non ci credeva. Forse sua madre si occupava più della componente materiale della famiglia. Ma Giulia notava spesso che lei e la nonna si concedevano qualche ora in cucina per parlare di qualcosa a bassa voce. E Giulia pensava che, ai tempi della giovinezza della madre, la nonna e la figlia fossero state molto vicine. Almeno chi fosse il padre dell'unica nipote, Sandra doveva saperlo con certezza. Giulia aveva scommesso molto su questo. «Oh, volpe!» mormorò frustrata la nonna, tirandosi nervosamente la gonna screziata. «Come diavolo faccio?» «Puoi farlo!» Giulia rispose con fermezza. «Nonna, capiscimi!» Cambiando tono e diventando più gentile, la ragazza prese la mano di Sandra. «È così importante per una ragazza avere un papà, non è vero?» «Sono passati diciassette anni. Vorrei solo sapere che tipo di uomo era, almeno come si chiamava. Il mondo è grande. Non è probabile che lo trovi. Ne ho bisogno per me, sai?» Il volto della nonna impallidì. Si portò una mano al cuore, scuotendo stancamente la testa. «Piccola volpe!» Disse Sandra con una nuova intonazione, ripetendo più volte il nomignolo di Giulia con eccitazione. Sembrava rassicurare se stessa. «Ma sono affari della mamma, tra la mamma e quell'uomo. Sono anche affari miei», disse Giulia in modo pesante. Si era preparata per questa conversazione e aveva già pronti tutti gli argomenti che avrebbe presentato. «Questi sono i miei genitori. L'inizio della mia storia. La mamma non vuole parlarne. È importante che io lo sappia. Quanto sei piccola!» La nonna accarezzò i capelli rossi della nipote. Mila aveva un colore di capelli simile, ma non c'erano mai stati rossi in famiglia. «Non capisci nulla delle relazioni tra adulti. Non sono una bambina!» Giulia si infiammò, ma non riuscì a trattenere un rossore traditore. «E questo cosa c'entra?» «Centra è come?» Improvvisamente la nonna divenne molto severa. «Non sai nulla delle relazioni. Non ti rendi conto di quanto possano essere complicate.» Sandra fece un respiro profondo. Giulia strizzò gli occhi. «Mila mi ha spezzato il cuore. Ed era solo un po' più grande di te. Nonna.» Giulia prese la mano della nonna e la guardò negli occhi. «Allora dimmi, per favore.» «Oh, il nonno ha ragione. Tu sei una volpe.» «Una volpe.» «Otterrai quello che vuoi.» Disse gravemente la donna. Rimase in silenzio per qualche minuto. Poi cominciò a parlare in modo incerto e lento. Il suo tono era freddo, distaccato, come se stesse raccontando la trama di un libro che una volta l'aveva fatta piangere per giorni e giorni. «Tua madre era così intelligente, così bella, proprio come te. Aveva deciso subito cosa voleva fare. Un medico, ecco cosa voleva essere. E che medico? Un chirurgo.» Avevo paura per lei. Ma ero anche terribilmente orgogliosa. Avevo una figlia così. Mi sono impegnata a fondo per un motivo. Finì la scuola. Entrò in questa facoltà di medicina. Quando aveva appena compiuto 19 anni, studiò per sei mesi. E venne da loro un nuovo insegnante. Veniva da Filadelfia. Più vecchio di mila di dieci o anche quindici anni. Ma l'avevo intravisto solo un paio di volte. Un uomo bello, affascinante, intelligente. Mila partecipava a tutte le conferenze, a tutti i progetti. E a lui, come nuovo insegnante, venivano affidati tutti. È lì che si sono conosciuti. A tua madre piaceva un ragazzo a quei tempi. Lavorava in un bar vicino all'istituto. Si chiamava Dakota. Mila ne parlava in continuazione. Ma tuo padre non era contento. Cosa si può fare a una figlia giovane se le piace un ragazzo? Poi quel nome scomparve. E l'altro non comparve più. Questo insegnante, come ha detto Mila, si tenne a distanza. Eppure, la differenza di età e lo status, professore e studente. Dove si era già visto? Ma a Mila piaceva molto. E addirittura, temo di dirlo, se ne innamorò. Facevano i loro progetti. Scrivevano articoli. E tutto insieme. Tutto insieme. Mila mi ha parlato di lui un paio di volte in confidenza. Per non farsi sentire da mio padre. Di quanto fosse intelligente e bello. E di quanto fosse interessante stare con lui. Mila è una ragazza tenace. Ha studiato molto. Quindi, a quanto pare, tra tutti, solo una persona come quella l'aveva davvero conquistata. Per molto tempo tutto rimase fermo. Mila era arrabbiata. Ma non lo dava a vedere. Aveva capito. E poi non lo so. Mila aveva vent'anni. Era al secondo anno. E poi arrivarono i regali. Fiori ogni settimana. Cioccolatini. Dischi di musica che piacevano alla figlia. Libri che leggeva. Regali così pesanti. Dai quali si capisce subito che una persona è interessata a te. Io e mio padre capimmo subito chi mandava i regali. E Mila non ce lo nascondeva. Naturalmente sia io come madre che rei come padre le parlavamo delle nostre cose. Ma non abbiamo mai dubitato del suo giudizio. E non dobbiamo farlo ora. E poi non so nemmeno io cosa sia successo. Non mi sono mai mischiata nei panni sporchi di mia figlia. Non ho mai pensato che fosse giusto. Ma poi, poco prima di Capodanno, è successo qualcosa. Mila non era in sé. Piangeva. Non riusciva ad andare a scuola. Dormiva poco. Mangiava poco. La mia povera bambina. E i regali sono arrivati per un po'. Ma Mila rimandava tutto indietro. Non accettava nulla. Ci siamo lasciati. Lei aveva capito. Non gliel'ho chiesto. Mila era in una brutta situazione senza che io le parlassi. Le stavo solo dando il massimo sostegno. Più tenerezza. Più attenzione. Anche se vedevo che non se ne sarebbe mai andato davvero. Perché no? Chiese Giulia con voce un po' roca, interrompendo la nonna. Sandra guardò la nipote. Gli occhi della donna erano umidi e la sua voce era ormai tranquilla. Perché lo amava. Lo amava molto. E credo che lo ami ancora. Gli occhi di Giulia si allargarono per la sorpresa e la nonna le accarezzò la guancia. Non pensare. Non capiresti comunque. Sono abbastanza grande. Non capisco bene. Ma sono sicura che tua madre amava tuo padre. Posso solo immaginare cosa sia successo. Probabilmente qualcuno all'istituto ha scoperto cosa stava succedendo. E affinché Mila potesse continuare a studiare in pace e non rovinare la carriera di quest'uomo, divorziarono lentamente. Pacificamente. Ma non posso dirtelo con certezza perché tua madre non mi ha detto cosa stava succedendo. Non mi ha mai detto come è finita. Mila pianse a lungo. Poi con rinnovato vigore si mise a studiare. Si è buttata a capofitto. E un paio di settimane dopo capodanno abbiamo scoperto che ci sarebbe stata una nuova aggiunta alla nostra famiglia. E presto sei nata tu. Probabilmente la nonna aveva ragione. Giulia non riusciva a capire. Non riusciva a immaginare di amare qualcuno così tanto da rischiare la propria reputazione. Lei, nonostante avesse quasi 17 anni, non si era mai innamorata fino a quel momento. Certo, aveva amici, una sua compagnia, che comprendeva anche ragazzi, e qualcuno molto intelligente, qualcuno molto bello. Ma la cerchia dei loro interessi non si era mai intersecata con quella di Giulia. E quindi non pensava nemmeno che fosse possibile uscire con qualcuno di loro, o altrove. Non come gruppo, solo loro due. Ma conosceva bene il significato della parola reputazione. Ed era in gran parte merito di sua madre, la cui reputazione impeccabile l'aveva già aiutata a raggiungere alcune vette più velocemente degli altri. Per esempio, grazie alla sua buona reputazione, lei, giovane studentessa con un bambino in braccio, era stata assunta per lavorare in un'eccellente clinica dopo l'istituto. Grazie alla sua buona reputazione, questa clinica ha mandato Mila a fare un'ulteriore formazione. Grazie alla sua buona reputazione, il primario aveva assunto una donna come sua vice in chirurgia, laboriosa e tenace, anche se non aveva molta esperienza. Giulia vedeva già che la reputazione lavorava per lei. Indulgenza nei suoi studi, fiducia nei progetti stimolanti della giovane naturalista. Un futuro distintivo d'onore per la missione, dove desiderava andare. E se lei, un'allieva, una ragazza che aveva appena compiuto 17 anni, capiva la complessità di questo fenomeno, allora sua madre, intelligente e seria, con i suoi 19 anni, probabilmente lo capiva ancora meglio. Probabilmente è per questo che taceva e teneva tutto segreto. Anche alle due persone più vicine a lei, i suoi genitori. Ma allora cosa è successo davvero? La nonna non mentiva. Non sapeva davvero come fosse avvenuta la rottura tra la sua giovane figlia e quel professore. Quindi il padre di Giulia è un professore o addirittura un medico. Quindi quel professore è questo? Mormorò Giulia, sgranocchiando le dita nervosamente. Sai chi è? Il suo cuore batteva forte, veloce, come un coniglio che scappa da una volpe. Se solo lo sapesse, se solo lo sapesse. La nonna guardò la nipote con uno sguardo inaspettatamente severo e duro. Io, Giulia, te lo dirò, naturalmente, ma non fare niente di stupido. Pensaci bene. Poi verrà anche la mamma. Non dirglielo ancora, non disturbarla. Ma quando arriverà, dovrai dirle la verità. Mi capisci, volpe? Sì, ho capito. Giulia annui. In effetti, pensando così, voleva sapere chi fosse suo padre. Solo per se stessa. Solo per sapere. Ma da quello che le aveva detto la nonna, poteva arrivare facilmente a lui. La mamma frequentava un istituto molto prestigioso. I professori che vi lavoravano erano probabilmente molto conosciuti nel loro ambiente medico. Ma se suo padre viveva nella capitale? E cosa fare in quel caso? Non volevo venire meno alla mia parola. Ma allo stesso tempo. Non lo so per certo. Sandra disse con cautela. Non so nemmeno se tuo padre sa che esisti o no. Mila era decisa a partorirti da sola e a darti tutto quello che poteva. Non mi ha risposto a questa domanda. Ma quando ho saputo che stavo per avere una nipotina, ho guardato il sito web di questo istituto. In qualche modo ho intravisto che il biglietto con il prossimo regalo era firmato come dal vostro prof D di prof probabilmente un professore. Ed era più difficile con la lettera D. Sul sito c'erano diversi professori maschi con un nome o un cognome con quella lettera. Due erano troppo grandi e difficilmente avrebbero attratto Mila, anche se erano uomini molto interessanti. Il terzo era un ragazzo che aveva appena terminato gli studi presso lo stesso istituto. Ma il quarto si adattava perfettamente. La differenza di età è discreta, ma non ancora così ripugnante. E non lavora da molto tempo. Nonna, tu sei Sherlock Holmes, mormorò Giulia. Ma il suo cuore batteva freneticamente, non per gioco o divertimento. Ora, ora. Giulia si raddrizzò ancora più del solito. La nonna sorrise, apparentemente ritardando deliberatamente questo momento eccitante per sé. Non lo sapevi? Si chiamava Mr. J. J. Bennett, sono sicura che è tuo padre. Cosa? Giulia saltò in piedi e fissò la nonna con occhi spalancati. I suoi codini rossi ondeggiarono per il movimento improvviso e per un attimo sembrò la stessa buffa bambina che Sandra aveva preso all'asilo, che camminava in braccio al suo lungo gatto, ondeggiando come un pinguino. Ma uno sguardo a quegli occhi verdi e bellicosi chiarì che la ragazza era cresciuta da tempo. Stai scherzando? Scherzerei mai su una cosa del genere? Chiese Sandra con severità. E dal modo in cui le sue labbra si serrarono, Giulia capì che la nonna non era in vena di scherzi. Una volta ho chiesto a tua madre. Non ha voluto confermarlo, ma non ha voluto negarlo. Come ho capito. E le sue labbra si strinsero ancora di più. Ho visto delle foto di lui. C'è qualcosa. Qualcosa. Perché il loro club di giovani naturalisti portava animali che potevano aver bisogno di un intervento chirurgico. Giulia andava spesso con loro alla clinica veterinaria. E se non c'era un'operazione importante, passava il tempo con i medici o nella sala, dove di solito c'erano riviste e giornali di medicina. C'erano articoli sui chirurghi e sulla chirurgia in generale. Su uno di questi, mentre aspettava che il suo nuovo reparto venisse visitato e rattoppato, vide la sua foto. Il signor Jay. Uno dei migliori chirurghi del paese. Un medico intelligente e abile. Un maestro del suo mestiere. Era conosciuto come chirurgo ortopedico. Ma la sua ricerca andava oltre questa specialità. Era un uomo molto, molto popolare. Giulia aveva letto un articolo di un'intervista con lui e credo che ci fosse qualcosa sull'insegnamento. Ma la ragazza non l'aveva letto. Un luminare della scienza moderna. E quest'uomo era suo padre. Ma ora lo sa. Con una strana intonazione disse la nonna. Allora, come ti senti? Strano. Giulia rispose onestamente. Mi aspettavo di sentire un nome qualsiasi, ma non credevo fosse così. Capisco. Sandra allungò la mano e prese il palmo della nipote, umido di eccitazione, nel suo palmo caldo e morbido. Pensaci con calma. La mamma sta arrivando, ma dovrai parlarle onestamente di tutto. Ma ti prego, piccola volpe, non fare niente di stupido. Certo che non lo farò, nonna. Giurò Giulia, e strinse forte la mano della nonna nella sua, come per rafforzare le sue parole. Grazie per avermelo detto. Deve essere stato difficile per te. Un giorno l'avresti scoperto. È meglio così che in un altro modo. E prova a nascondere qualcosa a te stesso. E i due risero. In silenzio. Come bambini che hanno fatto qualcosa di divertente. Giulia aveva pensato per tutti questi giorni che la mamma non era ancora tornata a casa. Si era chiusa in silenzio nella sua stanza facendo i compiti a macchina. La sua vita non sembrava essere cambiata molto. Ma ora sapeva di avere un padre. Un uomo molto reale per lei. Inoltre, un uomo molto fortunato. Di successo. Famoso. E interessante. Il viaggio era previsto per la fine di giugno. E quando Giulia scoprì improvvisamente che tutti i preparativi di base erano finiti e che era libera, ammise a se stessa che era curiosa di sapere qualcosa di più su suo padre rispetto al testo della rivista. Giulia era in genere una ragazza piuttosto schietta, almeno con se stessa. Cominciava a essere attivamente incline all'analisi e non le piaceva fare i conti con la sua coscienza. Così confessò il suo interesse con franchezza e onestà. Cosa c'è di male in questo? Passò diverse serate a studiare articoli su Jay e a guardare le cassette delle sue interviste. Sembrava un uomo calmo e abbastanza intelligente. Aveva un eloquio fluido e ben esercitato e una voce piacevolmente roca. Giulia riconobbe che aveva ormai 51 anni, ma aveva un aspetto curato e ben rifinito. Indossava un abito classico per tutti i colloqui. Aveva occhi grigio-azzurri e capelli leggermente crespi. Aveva labbra sottili, un sorriso calmo e apparentemente indulgente. Aveva molte qualità. Con il suo fisico slanciato non occupava molto spazio in studio, ma tutta l'attenzione da un momento all'altro era rivolta solo a lui. Nel suo lavoro si attiene a qualche idea o principio filosofico, gli chiese un giornalista in una delle sue interviste. Jay ha riso. Solo se la pazienza e il lavoro sono la chiave del successo. Non so se sia filosofico o meno, ma credo che nel nostro lavoro, e anche in qualsiasi altro, non si possa essere più precisi. La pazienza e il lavoro sono la chiave del successo e della vittoria. Più ci si impegna, più si lavora, più si ottiene. E forse posso aggiungere solo un'altra frase alle mie idee filosofiche. La fortuna segue i coraggiosi. Giulia ripetè questa frase nello stesso momento in cui l'aveva trovata. La ragazza alzò la testa e i loro sguardi si incrociarono per un attimo. Sentì qualcosa che le stringeva il cuore in attesa di qualcosa di nuovo e sconosciuto. Ah, sì, il giuramento di Ippocrate. Come ho potuto dimenticarlo? Jay rise. Che razza di medico sono dopo questo? Giuramenti e promesse significano molto per lei, chiese il giornalista. Jay rimase in silenzio per un momento, con il volto un po' scuro mentre ci pensava. Cerco di non fare promesse e giuramenti, ma questo è dovuto alla natura della professione. Che tipo di promesse solide ci possono essere in chirurgia, quando ogni minuto può cambiare tutto? Nella vita. Pensò a qualcosa, accarezzandosi il mento liscio. Nella vita cerco di essere onesto con le persone, di non fare promesse se ho anche solo una frazione di dubbio che le manterrò. Giulia fissò l'immagine del dottore sul portatile, ipnotizzandolo proprio come aveva ipnotizzato sua nonna nel recente interrogatorio. Come se questo potesse fargli dire ancora più verità e rispondere a tutte le sue domande. Purtroppo non ha funzionato. E il giornalista purtroppo non aveva i poteri ipnotici di Giulia. E allora Jay arrotolò dolcemente la sua risposta. Probabilmente quando ero giovane avrei potuto fare promesse inutili, voti che non avevo intenzione di mantenere. Ma ora voglio credere che non ci sia posto nella mia vita. Tutto ciò che dico, devo onorarlo. E non per dare alle persone una speranza che non c'è e non può esserci. E non si tratta solo di lavoro, ma anche di vita. A proposito di speranza, vado un po' avanti. La giornalista ha riso un po'. Una domanda che interessa molte donne del paese e non solo. Jay sorrise, ridacchiando dolcemente, rendendosi conto della direzione che stava prendendo la conversazione. Qual è il vero stato civile dello scapolo più ambito della chirurgia? Giulia inarcò un sopracciglio per la sorpresa. Non era una brava intervistatrice. Nella loro cerchia, altre persone si occupavano dei media per i vari gruppi di social network e per i post normativi. Ma Giulia aveva imparato le basi del giornalismo come tutti gli altri. E se avesse avuto la possibilità di parlare con un naturalista esperto, con il direttore di una riserva naturale o con qualcun altro. di raccogliere un commento e fosse l'unica persona presente. Ma anche questa conoscenza iniziale era sufficiente a far riflettere Giulia. Di solito, nelle interviste, le persone non amano essere interrogate sulla loro vita privata. Inoltre, aveva letto in qualche articolo che Jay non era il tipo da tenere segreto il suo stato civile. Era quindi molto strano che gli venisse chiesto di parlarne. Ma, a quanto pare, Jay aveva un rapporto amichevole con il giornalista e l'intervista era stata condotta in un'atmosfera amichevole, così scosse la testa con un leggero sorriso. Ma per favore, che scapolo invidiabile che è un chirurgo. Venga nel mio reparto. Ci sono tanti giovani medici non sposati, molto più promettenti di me da questo punto di vista. Jay e il giornalista risero insieme. E come si dice oggi, i giovani sono privati, non pubblici. Da me non imparerà nulla di nuovo. Sono stato fedelmente sposato con la chirurgia per gli stessi 17 anni e i nostri figli comuni sono miei pazienti. Tutto qui. Non credo che questo cambierà mai. Il giornalista annui con comprensione e passò alla domanda successiva. Il fine giustifica i mezzi? Se l'obiettivo è salvare l'anima, allora il fine giustifica i mezzi. Tuttavia, noi medici cerchiamo di salvare delle vite. Quindi sì, ogni mezzo è buono. I medici dovrebbero lottare per i loro pazienti in ogni modo possibile. Non a scapito di altri, ovviamente. Personalmente non avrei paura di vendermi se ogni parte di me salvasse qualcuno. Se si tratta di un obiettivo personale, non mentirò. E mi è capitato di usare un nome o un'influenza per ottenere qualcosa per me. Non spesso, ma mi è capitato. Dopotutto siamo tutti umani. Cosa farebbe se non fosse un chirurgo? Un veterinario? Jay rispose immediatamente senza pensarci un secondo. Amo gli animali. La natura e le escursioni sono la mia passione. E strizzò l'occhio alla telecamera. Suo padre era così, un maestro del suo mestiere. Un uomo intelligente e colto, ma semplice, educato e cordiale. Anche le testate specializzate in scandali e intrighi lo consideravano un uomo integro. Certamente non privo di difetti, ma comunque piuttosto integro. Come diceva lui, non faccio promesse se ho anche solo un briciolo di dubbio che le manterrò. Probabilmente quando ero più giovane ho fatto promesse inutili. Voti che non avevo intenzione di mantenere. Ma ora voglio credere che non ci sia posto nella mia vita. È quello che è successo tra lui e la mamma. Ha promesso qualcosa. Ha fatto girare la testa a una giovane studentessa. Anche se è dubbio che una ragazza come Mila, anche se era la ragazza di quasi vent'anni fa, possa essere eccitata. Aveva fatto delle promesse allora. E poi non le aveva mantenute. Aveva paura per la sua reputazione ed era scappato. La mamma è una donna orgogliosa. Se lui l'avesse tradita, lei non sarebbe andata da lui con la notizia che stava per avere un bambino. E Giulia era tutta a favore di sua madre in questa situazione. Ma... Ma in qualche modo non riusciva a crederci. Jay aveva l'aria di un uomo molto solo, calmo ma, in qualche punto, anche triste. Triste. Come una nonna la cui tristezza si nascondeva all'angolo delle sue labbra sorridenti. In un'intervista ha detto di non avere nemmeno animali domestici. La sua vita non è pensata per prendersi cura di qualcuno. C'è un motivo per cui ho solo un cactus. Nell'intervista ha riso. E per qualche motivo Giulia ha visto un uomo triste e piuttosto solo. Forse era solo il massimalismo giovanile, l'incapacità di giudicare tutto in modo categorico e diretto, di non permettere la flessibilità di giudizio, di esagerare le proprie capacità, e di fare piani grandiosi. Conclusioni affrettate, polarità di giudizi e opinioni, eccessiva emotività e tutto il resto. Oppure stava semplicemente idealizzando l'immagine del padre che aveva conosciuto solo nel suo diciassettesimo anno di vita. Ma Giulia credeva, e a dire il vero, credeva a ragione, che nessuna di queste cose le fosse propria. Nella sua famiglia non c'erano personalità romantiche. Al contrario, sia suo nonno che sua madre erano dei duri realisti. Anche la nonna, sebbene affettuosa e gentile, non portava occhiali rosa. Quindi poteva trattarsi solo di una prima opinione su una persona. Purtroppo, allo stesso modo, questa opinione poteva essere sbagliata. Alcuni colleghi, parlando di Mr. J, hanno notato la sua cordialità, ma anche la sua riservatezza. È come se stesse con tutti e allo stesso tempo fosse solo. Ma non è stato detto nulla di male su di lui. Giulia non sapeva cosa pensare. Cercava di comportarsi come al solito e il nonno sembrava non accorgersi di nulla. Quando arrivò l'estate, si preoccupò molto dell'irrigazione automatica nell'aiuola della nonna. E Giulia stessa era sempre stata una ragazza un po' riservata riguardo ai suoi progetti. La nonna, sospettando cosa stesse realmente accadendo, osservò la nipote con maggiore attenzione e continuò a lanciare occhiate incerte verso il telefono. Mila era impegnata in una conferenza importante. Se andrà bene, sua figlia si divertirà. Inoltre, la pubblicazione su un noto almanacco scientifico e le preoccupazioni inutili le avrebbero fatto bene. Dopo i viaggi di lavoro, a Mila veniva sempre concesso del tempo per riposare. Era quindi possibile che lei e sua figlia avessero ancora tempo per parlare di tutto. Forse non è il caso di chiamare. O forse dovrebbe pentirsi con sua figlia. Alla fine, Sandra era in dubbio quanto la sua Giulia. Nel frattempo, la gita annuale al santuario si avvicinava sempre di più. Giulia era felice di distrarsi dal pensiero del padre raccogliendo certificati medici, firmando documenti e impacchettando gradualmente le sue cose. Non aveva ancora deciso cosa fare. E come si può decidere così in fretta? E poi cosa c'era da decidere? Presentarsi alla sua porta e dire Salve, sono sua figlia. Giulia non poteva farlo. Era molto imbarazzata. E non si sa come avrebbe reagito Jay. E poi c'era sua madre. Giulia non voleva decidere senza di lei. Dopotutto, non conosceva tutta la storia. Se davvero aveva ingannato la mamma, perché avrebbe voluto una persona del genere nella sua famiglia? Perché Giulia dovrebbe volere un padre che tradisce e inganna? Forse era così quando era giovane. E ora è cambiato. Ma le sue possibili offese a Mila non lo compensano. Le speculazioni erano speculazioni, ma i fatti erano questi. Giulia non aveva un padre, ma solo una madre. E qualunque cosa accadesse, Giulia non aveva intenzione di rinunciare alla sua mamma, che faceva di tutto per la sua famiglia. Mila tornò a casa il giorno in cui Giulia stava già raccogliendo tutti i documenti per il suo viaggio. Purtroppo non poteva incontrare la mamma, ma sapendo che era già a casa, tornò di corsa, e più velocemente del solito. Non vedeva l'ora di mostrare alla mamma la sua presentazione, di raccontarle l'itinerario del suo viaggio, di chiederle come era andata la conferenza scientifica e di parlare semplicemente con la sua adorata mamma. Naturalmente avrebbero dovuto parlare anche di suo padre, ma questo non era importante quanto il fatto che la mamma fosse finalmente tornata. Mila stava aspettando sua figlia. Seduta in cucina, si era già cambiata con un semplice completo casalingo composto da pantaloncini e una maglietta lunga. Si era infilata con non curanza i capelli in uno chignon dietro la testa e si era seduta, rilassata, a bere il tè. Quando Giulia, togliendosi le scarpe mentre camminava, entrò di corsa in cucina. Mila sorrise alla figlia e le tese le braccia. Giulia, proprio come una bambina, si precipitò al collo della madre e la abbracciò forte. Mila ricambiò l'abbraccio, baciandola affettuosamente sulla guancia. Quanto mi sei mancata, Volpe. Mila ricambiò l'abbraccio della figlia. Ti ho portato dei regali. Spero che ti piacciano. Certo che mi piacciono. Giulia annui. Non sapeva cosa le avesse portato sua madre, ma ne era già contenta ed era pronta a essere felice, anche di un semplice cioccolatino proveniente da una città straniera. Com'è andata la conferenza? Un po' più tranquilla, Giulia chiese, sedendosi sulla sedia accanto alla madre. Istruttiva. Mila sorrise. Ma fondamentalmente, come tutte le altre persone serie, noiosa su cose interessanti. Su venti relazioni ce n'erano solo tre o quattro veramente interessanti. Vorrei quasi che nelle presentazioni potessimo fare le stesse buffe transizioni che fate voi a conferenze come questa. A proposito, com'è andato il tuo progetto? Il supervisore l'ha approvato, disse Giulia con orgoglio. La mamma la guardò e sorrise affettuosamente. Lo invierà all'accademia. L'anno prossimo potrò presentare il mio progetto all'istituto. È meraviglioso. Mila ha sorriso con un ampio e orgoglioso sorriso. Sei proprio una brava ragazza. Domani mi farai vedere almeno una presentazione interessante. Entrambe risero. Come va il tuo viaggio? Ho prenotato. Partiremo tra una settimana. Bene. Mila annui. Poi improvvisamente espirò pesantemente e guardò Giulia con i suoi seri occhi verdi. Giulia si bloccò. Conosceva bene quello sguardo. Lei stessa lo aveva usato spesso quando voleva che le persone fossero sincere con lei. Alla conferenza. Sua madre iniziò dolcemente. C'erano diversi interventi di psicologi. Uno di loro disse che la conoscenza delle proprie radici determina la stabilità e la forza psicologica di una persona nell'età adulta. sono tornata a casa con la piena certezza che era arrivato il momento di parlare a cuore aperto con te. La mano di Mila, morbida ma forte, strinse il palmo sottile della figlia. Ma la nonna mi ha detto che tu e lei avete già parlato di una cosa importante. Non è vero, Volpina. La sua voce era morbida, persistente, come la panna fresca del primo mattino. Sì. Giulia si stiracchiò incerta. Poi espirò. Mi dispiace, mamma. Volevo davvero sapere chi fosse mio padre. Non volevo turbarti o litigare con te. Non scusarti. Avrei dovuto prestarti più attenzione e capire che era importante saperlo. Ogni bambino vuole sapere chi sono i suoi genitori. E anche tu hai il diritto di saperlo. Mila espirò pesantemente. E Giulia capì che questa conversazione non sarebbe stata affatto facile per sua madre. Ma finalmente era pronta a parlarne. O forse si era semplicemente accorta che sua figlia era diventata adulta e che il desiderio di conoscere suo padre non era solo una curiosità infantile o un'isteria adolescenziale. Allora, cosa vuoi chiedere? Hai già scoperto qualcosa? La nonna ha detto che non lo sa con certezza, ma pensa che mio padre sia il signor Jay. Mila annui in accordo. Non ha detto come è successo o perché. Giulia si zitti, non sapendo come formulare correttamente il pensiero. Ma la mamma sorrise comprensiva. La nonna probabilmente te l'ha già raccontato. Prima io ero una studentessa e lui un'insegnante. Aveva dodici anni più di me. Non so nemmeno dirti come sia andata a finire. Era semplicemente il suo modo di essere. La mamma rimase in silenzio per un momento. Interessante. Non mi ero mai interessata a nessuno prima di allora. Diceva le cose giuste che mi piacevano, che mi andavano bene. Condividevamo la maggior parte degli hobby dell'altro. All'inizio ero solo uno studente di alto livello di cui apprezzava le conoscenze. Poi ho iniziato a partecipare sotto la sua guida a diversi progetti. Tutto qui. Il passaparola. Al secondo anno abbiamo deciso di provare a stare insieme. Naturalmente tutto era segreto, quindi era molto difficile. Ma ero giovane, ero innamorata e volevo credere che fosse vero. La mamma rimase in silenzio, stringendo le labbra così forte da renderle quasi invisibili. Era vero? Giulia chiese dolcemente. A differenza dell'avidità con cui aveva ascoltato la storia di sua nonna, ora si sentiva dolorosamente dispiaciuta per la mamma. Sapeva che nella clinica dove lavorava Mila, dava l'impressione di una donna infelice e risentita. Era un bene che avesse un figlio, altrimenti i suoi vecchi colleghi avrebbero inserito Mila nella categoria di quelle donne che puntavano tutto sulla carriera e non ottenevano altro. Giulia era ostinatamente in disaccordo con questa visione della madre, ma ora vedeva che questa storia aveva lasciato un'impronta nella personalità della giovane e tenace Mila. E nei quasi due decenni trascorsi, quell'impronta non si era cancellata. È così. La mamma confermò dolcemente. Credo ancora che tutto fosse reale, ma un rapporto con una tale differenza, nemmeno una differenza di età, un rapporto in un tale stato, insegnante e studente, è sempre camminare sul filo del rasoio. Né io né lui volevamo perdere quel poco che avevamo, quel poco che prometteva successo nell'attività che amavamo. Ma eravamo innamorati. Nei nostri regali e incontri eravamo molto attenti. E il fatto che fossimo costantemente coinvolti in alcuni progetti insieme, prima di allora, ci ha permesso di tenere nascoste alcune cose. Ma, naturalmente, siamo stati scoperti. Giulia rabbrividì per il modo in cui la mamma lo disse con fermezza e decisione, condannata, come se avesse sparato in testa a qualcuno che stava già morendo per le profonde ferite. La voce si spense rapidamente, ma arrivò al preside. Per nostra fortuna, era un amico intimo di Jay. Per la prima volta in tutta la conversazione, la mamma chiamò il suo amante per nome. Non fece un dramma dello scandalo, ma non poté nemmeno coprirci. Se la cosa fosse andata oltre, è spaventoso immaginare quanto si sarebbe potuto vergognare. Lo capivo molto bene, allora come oggi. Ci parlò e ci consigliò di aspettare un po', perché io ero a metà del secondo anno. Non di interrompere completamente la comunicazione, ma di essere prudenti. Io ero preoccupato per Jay, e lui per me. E abbiamo deciso che il suo amico aveva ragione. Ha proposto a Jay di partecipare a una conferenza per un paio di settimane dopo Capodanno, e lui ha accettato. Dopo Capodanno se ne andò. Fu allora che scoprì di essere incinta. Non vi siete più parlati dopo. Abbiamo deciso di stare lontani l'uno dall'altra per evitare che le voci si rafforzassero. Lei ha spiegato. E quando se ne andò, volevo dirgli che ero incinta. Ma all'ultimo momento mi spaventai. Scrissi una lettera all'ufficio postale e quasi la spedii. All'ultimo momento mi è tremata la mano e l'ho cancellata. Non so perché. Un dubbio fugace mi ha assalito come una valanga, e ho avuto paura. E poi succede che smetti di comunicare con una persona, anche se l'hai amata poco tempo fa e fortemente, e anche se la ami ancora. È stato molto più tardi quando sei nato e sei andato all'asilo, e io sono stata ricoverata in ospedale. Ho scoperto a livello di voci che suo padre è morto quell'anno, e poi l'anno successivo anche sua madre è morta improvvisamente. La storia è andata avanti. E quando finalmente tornò, non riuscì a trovare la forza di incontrarlo. Non so se mi stesse cercando. Non ero più solo una studentessa. Mi ero laureata, ed ero diventata madre. Ho messo me stessa al primo posto. Mi la espirò pesantemente. Ora comincio a pensare che forse ho sbagliato. Il mio orgoglio non doveva essere il motivo per cui non avevi un padre. Mamma, non preoccuparti, esclamò subito Giulia, afferrando la mano della mamma. Capisco e non ti biasimo. Ti sono grata per avermi raccontato tutto. Come non potrei? Tu, mia piccola volpe scaltra, scoprirai comunque la verità. Ridacchiarono di nuovo. Mio padre era un bravuomo. Molto buono. Mila annui. Davvero. Capisco che tu voglia conoscerlo. Non ti fermerò. Sai, tiene conferenze pubbliche a cui tutti possono iscriversi. Vai ad ascoltare. La mamma scrollò le spalle con non curanza. Ma Giulia capì che in realtà era preoccupata. E molto. Se ti piace negli incontri faccia a faccia, possiamo dirgli tutto. Potrebbe non essere facile. Non ho prove particolari. E se decidi di farlo, capisci che sarà così. Capisco. Giulia si affrettò a dire. Ma ti sosterrò sempre. Mila le toccò la guancia con un dito. So che ormai sei cresciuta. Ma non devi affrontare tutto questo da sola. Ti capisco. Giulia ripetè. Grazie mamma. Mila annui di nuovo. Abbracciando la figlia. Ma Giulia poteva vedere la preoccupazione nei suoi occhi verdi. Era vero che Jay organizzava spesso conferenze pubbliche, letture o colloqui in alcuni istituti o college. Giulia si era iscritta ad alcuni di quelli particolarmente interessanti. Non si avvicinò. Ascoltando e osservando da una discreta distanza. Jay si rivelò proprio come le era apparso nell'intervista. Un uomo calmo e sensibile, colto e intelligente. Parlava con passione dell'argomento in questione. Scherzava, rideva, comunicava apertamente con i suoi ascoltatori e dava l'impressione di un uomo felice di ciò che faceva e del modo in cui viveva la sua vita. Giulia lo ascoltava con molta attenzione, guardandolo in faccia. E forse lo pensava soltanto, ma per certi versi si somigliavano davvero. Il viso di Giulia era un po' più morbido perché era una ragazza, ma gli occhi leggermente obliqui, i capelli rossi di lui e di lei, le labbra sottili dalla forma simile. Giulia trovava la somiglianza sempre più evidente e diventava sempre più determinata a conoscere suo padre. Un giorno fu una delle ultime a lasciare la conferenza e all'inizio voleva indugiare, parlare, forse anche dire tutta la verità, ma non poteva. Non sapeva ancora bene come dirlo. Ma non si sarebbe avvicinata a lui, vero? No, non l'avrebbe fatto. Ci voleva un buon motivo. Un paio di settimane dopo ci fu l'escursione annuale alla riserva. A volte sceglievano le montagne, a volte i boschi. Esplorare. Conoscere la natura. Quello che a Giulia piaceva del club era che una buona sponsorizzazione apriva loro alcune porte, ma i responsabili, insegnanti di biologia, senza sostegno finanziario, riuscivano a trovare qualcosa per tenere occupati i loro alunni. Quest'anno sono stati fortunati. L'università aveva dato loro dei soldi e si erano diretti verso una riserva naturale statale. Giulia era contenta che l'avessero fatto. Non solo questa gita prometteva di essere un'esperienza interessante, ma avrebbe dovuto aiutarla a distrarsi personalmente. La riserva naturale era una vera e propria isola di natura selvaggia nella regione più densamente popolata del paese. Era l'unica e la più piccola riserva naturale dello Stato. Si trovava sulle terrazze naturali della riva sinistra del fiume, coperte da foreste di conifere e miste. Ed era un vero e proprio tesoro per i giovani naturalisti e anche per i più cari. In questa riserva crescono 913 specie di piante. Sul suo territorio unico si possono trovare sia torbiere con mirtillo nero e mirtillo rosso, caratteristiche delle regioni settentrionali, sia aree con vegetazione steppica più meridionale. 153 specie di uccelli e 57 specie di mammiferi selvatici abitano la sua area. Chissà quale organizzazione sta proteggendo e studiando questo angolo di natura selvaggia? Chiese l'insegnante di biologia. Si addentrarono nella foresta per montare le tende e iniziare a sistemarsi. Avevano in programma di trascorrere qui circa cinque giorni. Giulia rispose alla domanda e la signora Valentina annui con approvazione. Ho sentito che qui si può adottare un bufalo. Aiutando le ragazze a montare le tende, Dennis, un esploratore divertente e irrequieto, disse solo se si è abbastanza ricchi da sponsorizzare un proprio figlio. Giulia ridacchiò. Questa adozione è necessaria per attirare sponsor che migliorino l'alloggio, l'alimentazione e le cure veterinarie dei bisonti dell'asilo e per promuovere un trattamento umano degli animali. Sarò un buon papà della domenica. Dennis ha dichiarato con coraggio. Verrò per un paio d'ore. Darò una pacca sulla testa a mio figlio e tornerò a casa. Bene, futuri genitori di bufali. La signora Valentine parlò a voce alta e il giovane si mise a ridere. Stanotte, per ora, pulite questo posto, così non dormiremo accanto alla spazzatura come maiali. E domani inizieremo i nostri compiti. Abbiamo un percorso verso il fiume. Stiamo ripulendo l'area, piantando giovani alberi. Stasera, quando avremo finito di ripulire la nostra casa temporanea, potremo fare una serata di canzoni soft. Spero che tutti ricordino le regole delle visite. Tutti le ricordano. I bambini ripetono obbedienti. Di norma, qui non erano ammesse tende, tensostrutture o capanne. Ma l'Accademia Agraria sponsorizzava generosamente il volontariato e così i giovani naturalisti potevano divertirsi. A condizione, ovviamente, che le regole fossero rigorosamente rispettate. Giulia, come tutti gli altri partecipanti all'escursione, ha svolto dieci ore di lavoro su dieci. Hanno raccolto rifiuti, rastrellato foglie, potato alberi, coperto, e se necessario, aggiornato le informazioni sugli stand. Durante il giorno erano così stanchi che avevano solo l'energia sufficiente per strisciare fino alla tenda e crollare sul materasso. Ma a Julia piaceva tutto questo. Le piaceva questa unità con la natura, la tranquillità che nasceva nella riserva tra gli alberi secolari. La dimensionalità, il silenzio melodioso della foresta, come se fosse un terzo mondo speciale. Non la città o la campagna in cui era magicamente caduta. Per tutti i giorni in cui erano stati qui, il sole aveva brillato intensamente, ma non era ancora così caldo. Sfondando il fogliame, gettava un mosaico di ombre e rifletteva tutta la ricchezza e la varietà di acquerelli con cui la natura dipingeva i suoi quadri. Il quarto giorno era più o meno libero, così la squadra decise di andare in acqua. Naturalmente nessuno aveva intenzione di nuotare, ma era molto piacevole camminare a piedi nudi sull'acqua, sulla superficie già abbastanza calda. Scherzando e chiacchierando allegramente, si sono diretti lungo il letto del fiume. La moderna pianura alluvionale del fiume non entrava quasi nel territorio della riserva e si trovava nella sua zona di protezione. Piccoli fiumi sezionavano la superficie del rilievo in acque locali, sezioni e pendii. Peccato non saper nuotare, disse Dennis infastidito mentre scendevano verso il fiume. Sono ancora arrabbiato perché non siamo riusciti a raggiungere il bufalo. Come possiamo fare? La direzione della riserva ci ha promesso un tour gratuito. Diana, un altro membro del circolo, me lo ha ricordato. Non so voi, ma io sono terrorizzata da questi bisonti. Animali grandi, forti e selvaggi. Quando si avventano su di te, è finita, non puoi fare nulla. Non per niente il sito web della riserva dice che il contatto diretto con loro è altamente indesiderabile e spesso molto pericoloso. Ragazze, non preoccupatevi, sarò con voi, disse eroicamente Dennis, togliendosi per primo le scarpe e camminando verso l'acqua sulle pietre calde con un sorriso leggero e soddisfatto. È fantastico, Giulia concordò, togliendosi anche lei i vestiti. Tu corri più lentamente. Mentre i bufali si occupano di te, noi possiamo scappare. Tutti risero e Dennis chiocciò indignato. Giulia era la persona più anziana di questo viaggio, senza contare il suo mentore biologo, ovviamente. Aveva già molta esperienza nelle riserve e un paio di volte aveva persino catturato dei cigni feriti in acqua per portarli alla clinica veterinaria. Quindi, alla battuta sui bisonti, Dennis preferì tacere, con poche probabilità che accadesse qualcosa. Camminarono ancora per un po' lungo il fiume. Diana si sedette sulle rocce come una lucertola, crogiolandosi al sole. La signora Valentine leggeva in silenzio. Dennis camminava avanti e indietro nell'acqua fino alle caviglie e Giulia si sedette sulla riva con solo un po' di dita nell'acqua. Anche gli altri giovani naturalisti si erano dispersi. In realtà, non erano poi così lontani. Giulia ascoltò il suono del fiume, il fruscio delle foglie, il cinguettio sommesso degli uccelli che volavano nell'aria. Giulia ascoltava e ascoltava, assaporando la tranquillità, sperando di catturarla e tenerla nel cuore fino a quando non sarebbe dovuta tornare a casa e decidere cosa fare dopo. Ha bisogno di suo padre nella sua vita o no? Il famoso chirurgo dovrebbe essere disturbato da una simile notizia? Se sì, come dovrebbe dare la notizia? Non volevo che mia madre fosse coinvolta. Era Giulia ad averne bisogno, non Mila. In caso contrario, avrebbe dovuto dimenticarsene e andare avanti con la sua vita. Molte persone vivono senza un padre. E allora? L'universo è l'intero universo, pensò Giulia ridacchiando mentalmente. Dammi un segno. un grido forte, profondo e rocco raggiunse la sua coscienza. Giulia aprì gli occhi e si guardò intorno. Tutte le sue amiche stavano facendo la stessa cosa. Solo la signora Valentine aveva messo da parte il suo libro e si era guardata intorno. Wow! Era la voce dell'universo. Giulia mormorò debolmente, asciugandosi il viso con il palmo della mano. Allora devo confessare che non capisco questa antica voce dell'universo. Il grido si ripetè, anche se ora un po' più silenzioso. Anche Diana alzò lo sguardo, ma non trovando la fonte dell'urlo si coprì di nuovo gli occhi. Giulia si alzò in piedi, scuotendosi. Signora Valentina, vado a camminare per un po', disse Giulia a bassa voce e la biologa la guardò e annui. Stia attenta. Giulia cercò di ricordare da quale orecchio era arrivato l'urlo e ci andò. L'urlo si ripetè. Una rapida successione di suoni, composta da molte sillabe e che assomigliava lontanamente all'abbaiare di un cane. Non dovette allontanarsi molto. Giulia sbirciò dietro un altro angolo e vide una grossa creatura prostrata sulle rocce. La creatura alzò la testa e ripetè di nuovo il suo grido. Giulia strizzò gli occhi e capì che si trattava di un enorme uccello. Si avvicinò, urtando un paio di ciottoli e l'uccello girò la testa verso di lei. Da questa distanza Giulia non riusciva a capire se fosse un nibbio, un'aquila reale o un'aquila. Fece ancora un paio di passi verso l'uccello che emise un grido sommesso e di avvertimento che si trasformò in un aspro carcagneo che ricordava la voce di un corvo. Ma invece di alzarsi in piedi e volare via rapidamente, l'uccello armò un'ala e scese impicchiata con fare minaccioso. Giulia guardò meglio. La lunga ala tesa si contrasse convulsamente ma per qualche motivo non si alzò. Un uccello sano non avrebbe reagito in quel modo alle persone, soprattutto all'aperto. Sarebbe volato via in fretta. Quindi il fatto stesso che Giulia fosse riuscita ad avvicinarsi tanto suggeriva che l'uccello era ferito o malato. Inoltre, le sue piume erano mal spennate e l'ala trascinava a terra. E il ciuffo scuro di piume si spostava solo saltellando e volando basso. Dannazione! Borbottò Giulia. Ragazzi, ragazzi! C'è un uccello con un'ala malconcia. In un minuto tutti erano al suo fianco e proprio mentre Giulia esaminava il grosso uccello, l'uccello scuoteva nervosamente l'ala sana. Ma solo al terzo tentativo riuscì a staccare l'ala maciullata. Lo osservarono ancora per un po'. Succede agli uccelli che, durante la nidificazione, allontanino i potenziali pericoli dal nido fingendo di essere feriti. Giulia aveva già fatto questa esperienza. Aveva inseguito senza successo un uccello in un periodo caldo dell'anno che chiaramente aveva le ali penzoloni e zoppicava via. Poi, all'improvviso, si era librato nel cielo. Tutti osservarono l'uccello ancora per un po' per assicurarsi che non fosse quello che avevano preso. È un'aquila? chiese infine Dennis. Sembra più un nibbio nero. Le aquile non vivono qui. Giulia obiettò. Si accovacciò un po' per guardare l'uccello che si bloccò e la fissò a sua volta. Ma l'ala sana si contraeva nervosamente e l'uccello emetteva di tanto in tanto un grido sommesso di avvertimento. In questa posizione, cercando di non fare movimenti bruschi, Giulia fece con cautela un altro paio di passi. L'uccello emise un gemito di disperazione assolutamente patetico. Gli altri si bloccarono con esitazione. Non sembrava aggressivo e non stava facendo nulla di particolarmente violento. Non sembra rabbioso. Forse è stato attaccato. Qui ci sono tassi e persino linci. Giulia l'ha detto a tutti. Dovremmo comunque denunciarlo. La signora Valentine sospirò. Denise, prendi bende, garze e candeggina. Mezz'ora dopo l'uccello ritrovato era già legato strettamente. Il becco e le ali erano stati accuratamente fasciati per evitare che beccasse. La signora Valentine esaminò attentamente l'ala e concluse che si trattava di un tasso o di qualche altro predatore nel cui territorio l'uccello poteva essere entrato accidentalmente. Apparentemente consapevole di non potersela cavare da sola, la creatura ferita si è lasciata esaminare obbedientemente per poi beccare pietosamente la mano di Giulia che le teneva la testa. La signora Valentine ha telefonato agli amministratori del santuario che hanno già chiamato un veterinario dalla clinica più vicina per portare via l'uccello. L'ala è grave? chiese Diana un po' ansiosa. Aveva paura di avvicinarsi così tanto all'enorme rapace ma si teneva fedelmente vicino. Dennis rimase con loro mentre Valentina e gli altri andavano a incontrare il veterinario. I tassi sono predatori. Possono staccare un dito intero a morsi. Disse Danny con tono confortante e accarezzò l'uccello sulla testa con la punta delle dita. Se è stato davvero un tasso il compagno è in una brutta situazione. Si era rotto l'ala quasi a pezzi. Spero che riesca ancora a volare. Giulia cosa stai scrutando? Non c'è motivo. Giulia Giulia ha chiocciato. No non vivono qui. Dennis scosse la testa dando una nuova occhiata alla loro improvvisa scoperta. Era un grosso rapace con ali lunghe e larghe e una coda lunga e dritta. Dennis si rendeva conto che era un po' più piccolo dell'aquila reale di cui conosceva bene l'aspetto. Suo nonno aveva tenuto un'aquila reale nel villaggio quando l'aveva salvata dai lupi e la coda era più corta e stretta. sebbene l'aquila reale avesse una coda simile a una foglia d'acero e a un ventaglio e una colorazione marrone scuro quasi nera del piumaggio della maggior parte del corpo le piume allungate sulla nuca erano sensibilmente più chiare di colore paglierino e i gravellers possono spesso sviluppare macchie bianche sulle spalle. Non è vero. Diana era d'accordo ma la maggior parte della loro popolazione non nidifica molto lontano quindi forse sono volati qui per caso forse è malato o almeno è scappato dallo zoo esattamente il nostro zoo ha un luogo di sepoltura credo Giulia Annui forse è da lì che è scappato in lontananza i ragazzi sentirono il rumore di persone che si avvicinavano ok ora arriverà il veterinario e risolveremo il problema il medico che si avvicinò fu sorpreso nel confermare che si trattava davvero di un'aquila imperiale qualcuno doveva andare con lui per compilare un modulo di accettazione e raccontargli esattamente cosa era successo come avevano trovato l'aquila e tutto il resto Valentina non poteva lasciare i bambini qui da soli perché era la più grande Giulia andò l'aquila se ne stava immobile tra le sue braccia emettendo solo qualche suono Giulia le accarezzava delicatamente la testa come un gatto la clinica veterinaria era collegata a un istituto medico che la sponsorizzava come tutor all'inizio Giulia non capì perché l'edificio le sembrasse così familiare poi all'improvviso se ne rese conto era qui che sua madre era andata a scuola mentre il veterinario esaminava il paziente piumato Giulia compilò una scheda di appuntamento l'uccello fu posto sul tavolo nel modo più ordinato possibile con entrambe le ali fissate e le zampe legate insieme il petto dell'aquila si alzava velocemente per l'eccitazione e i piccoli occhi correvano eccitati emozionati come quelli degli umani Giulia sorrise affettuosamente all'aquila come se questo potesse calmarla e per un po' l'uccello si calmò ebbene Giulia abbiamo una notizia deludente per te espirando pesantemente il medico disse Giulia si sentì male che cos'è? è una frattura aperta disse cupo è sempre un grosso problema ho pulito la ferita e rimosso i frammenti ossei ma si sospetta un danno muscolare è inutile steccare in questi casi è meglio amputare la parte dell'ala colpita perché dopo un po' muore i piccoli uccelli guariscono rapidamente dopo aver perso una parte delle ali mentre i rapaci nella maggior parte dei casi tollerano con difficoltà tali operazioni ed è meglio addormentarli aspettate Giulia si alzò di scatto dalla sedia vuoi dire che si può solo addormentare si può rimuovere l'ala con la stessa espressione di frustrazione disse il veterinario ma poi dovrete tenerlo in gabbia per il resto della sua vita non credo che vivrà così a lungo e se Giulia cominciò a pensare freneticamente come naturalista aveva un livello di empatia maggiore per gli animali non per le persone e poi non le piaceva nessuna delle opzioni che le si presentavano che ne dite di intervenire sul muscolo colpito non esisteva un intervento del genere nella pratica veterinaria il medico scosse la testa a volte se i proprietari lo desiderano coinvolgiamo i chirurghi convenzionali in questo lavoro ed eseguiamo l'operazione insieme ma ora tutti i nostri chirurghi che si occupano di questi casi sono fuori sede hanno poca pratica in istituto quindi spesso combinano il lavoro part time qui e in ospedale ma ora non so nemmeno a chi rivolgermi il veterinario rimase in silenzio per un po' guardando l'uccello e Julia capì che voleva trovare un modo per aiutare la sfortunata aquila non perché l'aquila imperiale fosse un uccello così raro o sull'orlo dell'estinzione ma perché voleva farlo perché quell'uccello era in difficoltà ma questo è il genere di cose che fa di tanto in tanto all'improvviso il veterinario disse ma non lo so padre si illuminò a grandi lettere nella testa di Julia dopo tutto aveva ragione il grido dell'aquila è la voce dell'universo stesso stava chiedendo aiuto guida direzione eccoci qui trova un uccello raro che solo l'universo può aiutare mister j chiese Julia con un po' di apprensione ma il veterinario immerso nei suoi pensieri non notò il tono preoccupato della donna annui era impegnato nella formazione di chirurghi che lavoravano su animali e uccelli nell'ambito di qualche evento di beneficenza la sua clinica è sempre coinvolta in progetti di beneficenza eventi ambientali e simili non lo pratica molto non ha molto tempo ma lo vediamo di tanto in tanto e c'è un uccello nel libro rosso potrebbe funzionare forse allora perché siamo seduti qui Giulia strinse i pugni dietro la schiena per evitare che il veterinario li vedesse tremare andiamo oggi non posso il veterinario guardò il quadrante è una giornata impegnativa non posso mollare tutto e andare con questo uccello anche se volessi sospirò pesantemente poi guardò Giulia puoi andarci tu? chiamerò il primario ne sarei felice il veterinario mise l'aquila in un trasporto speciale e l'uccello ancora una volta in un'auto in movimento urlò eccitato e ruotò la testa l'autista guardava con cautela sia l'aquila che la ragazza l'aquila sembrò persino ascoltarla perché eccitata si girò al suono della sua voce e si avvicinò per qualche minuto Giulia pensò di scrivere alla mamma forse sarebbe venuta ma poi non osò la mamma era al lavoro preoccuparla non era certo un'opzione e poi qual è il problema? Giulia era appena andata con l'aquila all'ospedale non aveva programmato di dire nulla o altro il destino e tutto il resto forse oggi sarebbe successo qualcos'altro che l'avrebbe spinta a confessare la sala d'attesa dell'ambulatorio era luminosa e quasi sterile pulita e stranamente vuota non c'erano altre persone solo un paio di infermiere le guardie di sicurezza vicino alla macchinetta del caffè e una ragazza sorridente dietro il banco della reception quando vide la ragazza con l'enorme borsa tra le mani si tese e il suo sorriso si contrasse nervosamente anche se non svanì anche le guardie sembravano diffidenti ma una di loro notò il mucchio che si muoveva nella cassa e si rilassò un po' l'aquila trovandosi in un ambiente nuovo cercò di mimetizzarsi con la cassa e divenne silenziosa Dio quanto era pesante sembrava proprio una lapide buon pomeriggio annui la ragazza alla reception posso aiutarla buon pomeriggio Giulia rivolse alla ragazza dell'accettazione un ampio e allegro sorriso anche se si sentiva come se non riuscisse più a reggere la cassa sono una volontaria dell'università di agraria mentre lavoravamo abbiamo trovato quest'aquila in una riserva statale privata la sua ala era gravemente danneggiata e il veterinario ci ha suggerito di andare in sala operatoria ha detto che il signor J. Bennett si occupa di questo genere di cose e ha promesso di chiamare il direttore sanitario oggi è impegnato in un'operazione importante è improbabile che lo faccia oggi disse una delle infermiere prima che lei e la sua collega se ne andassero Giulia lanciò loro un'occhiata contrariata e persino arrabbiata ma cercò di calmarsi e guardò lo specializzando medico mi scusi mi permetta di registrarla e di dire a mister J che è qui con calma suggerì l'ufficiale di stato civile Giulia sospirò per la pesantezza e posò la scatola sul pavimento vicino ai suoi piedi una delle guardie diede una gomitata all'altra e le due uscirono fuori accendendo le sigarette Giulia guardò l'impiegata con il suo sguardo esigente e tenace preferito nei suoi occhi verdi capisco ma quest'aquila è elencata nel libro rosso è un'aquila grave è una specie vulnerabile è molto probabile che sia volata via dallo zoo di Metz stiamo chiarendo queste informazioni ma l'ala deve essere salvata il prima possibile Giulia ha dichiarato con fermezza e chiarezza la sua voce sembrava così sicura che l'ufficiale medico era un po' confuso a quanto pare gli adolescenti che potevano apparire qui erano molto meno esigenti e sicuri di Giulia mi dispiace ma proprio in quel momento il telefono squillò nel suo piccolo ufficio la ragazza trassalì e guardò in quella direzione può restare qui un minuto per favore contatterò il primario per vedere cosa si può fare grazie Giulia non aveva intenzione di aspettare ovviamente studiò sommariamente la pianta dell'ospedale appesa alla parete della reception e avendo capito dove doveva andare per raggiungere il reparto di chirurgia prese allegramente la scatola con l'aquila e scivolò il più silenziosamente possibile nella direzione in cui voleva andare mentre la ragazza era al telefono per qualcosa anche se si trattava del primario in persona Giulia non aveva intenzione di sentirsi in colpa in questo momento non abbia paura mio buon uomo non ti lascerò senza aiuto la ragazza ridacchiò sei destinato a essere salvato capito amico l'aquila le urlò qualcosa in risposta e abbassò di nuovo la testa per evitare inutili incontri con il personale Giulia dovette usare le scale invece dell'ascensore salì a gattoni fino al quinto piano con grande difficoltà con pause e soste dopo ogni rampa contenta che non si trattasse della clinica di undici piani della mamma al quinto piano prima di entrare in reparto cercò di riprendere fiato per quasi tre minuti oh mummie respirando pesantemente Giulia mormorò Eagle alzò di nuovo lo sguardo per vedere cosa c'era che non andava ecco amico vorrei essere un condor infernale ti solleverei con i miei artigli vero? è difficile quando il suo respiro si era più o meno ripreso Giulia scrutò con cautela e rapidità il corridoio quasi subito fu fortunata la porta si aprì silenziosamente e dall'ufficio uscirono diversi uomini e due infermiere Giulia riconobbe immediatamente suo padre e si tirò la testa nelle spalle guardando attraverso il vetro della porta in modo da poter vedere tutto e lei non poteva essere vista da quell'angolazione ben fatto Jay come sempre esalò uno degli uomini dieci ore di funzionamento il tuo record? il mio record è di quindici Jay sorrise stancamente ora riesco a pensare solo a cambiarmi e ad andare a casa andrò in coma con questo tipo di sforzo nessuno tiene conto della mia età avanzata ha solo 49 anni sa una delle infermiere sorrise abbiamo età più rispettabili signor Jay e non si azzardi a entrare in coma la medicina crollerà senza di lei su questa nota amichevole i colleghi si accomiatarono con grande sollievo di Giulia Jay si diresse nella sua direzione e i suoi colleghi nell'altra prima ancora che Jay raggiungesse le porte che conducono alle scale erano già dietro l'angolo il dottore passò davanti alle porte senza notare nessuno o qualcosa intorno a lui follemente stanco e Giulia si vergognava quasi di averlo distratto da un riposo così meritato suo padre sembrava pallido aveva le occhiaie e sembrava un po' peggiore di persona che nelle interviste o nelle foto eppure aveva tra le mani la vita di un piccolo ma importantissimo sconosciuto Giulia fece un respiro profondo e quando Jay aveva quasi raggiunto il suo ufficio uscì da dietro la porta con una scatola in mano e lo chiamò dolcemente Mr. Jay il chirurgo trassalì e la guardò per qualche secondo mentre la guardava uno spasmo acuto gli attraversò il viso fu così rapido e fugace che Giulia non si rese nemmeno conto di cosa fosse sembrava torturato pallido le braccia pendevano quasi impotenti lungo il corpo e tutta la sua alta figura era visibilmente ingobbita 10 ore di intervento 10 quest'uomo stava lottando per la salute di qualcun altro forse addirittura per la vita disturbarlo ora era quasi un crimine ma anche Giulia stava lottando per la vita di qualcun altro sì era un'aquila non un essere umano ma la sua vita non poteva essere meno preziosa fece un altro respiro profondo preparandosi a parlare ma poi il chirurgo guardò la scatola che aveva in mano e sorrise stancamente dio spero che lì dentro non ci sia un uomo che ha bisogno del mio aiuto no disse Giulia confusamente non aspettandosi che facesse una battuta non proprio una persona ma qualcuno che ha bisogno del tuo aiuto si avvicinò un po' di più e la vittima piumata come se avesse capito che quella era la sua via d'uscita alzò la testa Jay trasalì a quanto pare non si aspettava certo di vedere un'aquila qui è un'aquila di mare è un uccello del libro rosso un tasso le ha quasi strappato un'ala a morsi il veterinario non ha potuto aiutarlo ha detto che c'era qualcosa che non andava nei suoi muscoli e che i veterinari non si occupano di questo genere di cose ma ha davvero bisogno di aiuto non ho mai avuto a che fare con gli uccelli scosse la testa Jay soprattutto dopo dieci ore di complicata chirurgia umana mi avevano detto che avevi seguito un qualche corso disse Giulia con ostinazione una ciocca di capelli le cadde in faccia e Giulia cercò di scacciarla guardandola di nuovo con la stessa espressione che aveva avuto quando lei lo aveva chiamato per la prima volta Jay chiese come ti chiami signorina Giulia Giulia non te ne andrai vero ironico e in qualche modo condannato chiese no disse Giulia con un mento fiero e Jay sorrise di qualcosa va bene entriamo un attimo esaminerò il tuo becchino nello studio mentre lui si sciacquava le mani e il viso Giulia posò una pellicola usa e getta sul divano e tirò fuori con cura l'aquila che cigolava sottilmente dalla scatola Jay la guardò con un leggero sorriso e sembrò che la sua perseveranza e la sicurezza con cui agiva dessero un po' di forza anche a lui si avvicinò all'aquila e la esaminò con attenzione studiando le ferite rotonde sulle ali poi esaminando le ali nella loro interezza l'aquila era intelligente e si lasciava esaminare con obbedienza non per niente si dice che tutti gli animali sono creature intelligenti e capiscono quando hanno bisogno di un aiuto esterno Giulia era così preoccupata per il suo paziente piumato che persino la sua stessa eccitazione nel trovarsi qui accanto a suo padre diminui un po' dovrà essere dato in affidamento disse Jay a un certo punto si lo so probabilmente viene dallo zoo e se non lo è sarà il mio compagno disse semplicemente Giulia Jay la guardò e sorrise di nuovo come hai fatto a superare l'ufficiale medico ha ricevuto una telefonata e mentre rispondeva sono passata io con la stessa semplicità e orgoglio Giulia spiegò se l'obiettivo è salvare un'anima spero che non sia stata tu a mordere la sua ala per incontrarmi cosa Giulia saltò addirittura sul posto a quella supposizione i suoi capelli rossi le ricaddero sulle spalle e i suoi occhi verdi si socchiusero bellicosamente certo che no adoro gli animali e gli uccelli non lo farei nemmeno per il mio attore preferito e Jay ridacchiò sembri una mia vecchia conoscenza disse improvvisamente lo disse con un'intonazione che a Giulia era molto familiare l'aveva già sentita nelle sue interviste quando le raccontava qualcosa di personale su di sé e quando sua nonna sorrideva di quel suo sorriso che nascondeva tristezza cosa le fa pensare che io sia sua figlia dopo questa affermazione Giulia rimase a bocca aperta e Jay la fissò con aria assente nell'ufficio regnava un silenzio di tomba la ragazza espirò timorosa coprendosi la bocca con la mano non l'avrebbe detto non l'avrebbe detto ora pensava di convincerlo ad aiutarla e lui avrebbe preso l'aquila e poi sarebbe rimasta sicuramente nella sua memoria una ragazza dai capelli rossi con un'aquila enorme che era elencata nel libro rosso ne ha molti? lei arriverà lui la accoglierà con il suo sorriso e lei racconterà tutto e ora Giulia era preoccupata le balenò in mente come un fuoco d'artificio inaspettato che spaventa i passanti solo che questo tripudio di colori le scoppiava dentro e al posto dello spavento uscivano queste parole questa confessione le uscì dalla gola oh no cosa accadrebbe ora se lui si arrabbiasse se ora la buttasse fuori con l'aquila e lei perdesse la sua unica possibilità ma Jay non era arrabbiato le fece solo un sorriso inaspettatamente triste e stanco e scosse la testa è una battuta molto divertente signorina non è una battuta disse lei con difficoltà rendendosi conto che era inutile cercare di essere sarcastica ora ya l'ho scoperto non molto tempo fa mia madre mi dispiace interrompervi disse Jay con garbo ma con fermezza ma è impossibile non posso avere figli quindi o sta scherzando o si sta sbagliando riportò con cura l'aquila nella scatola ma Giulia sentì improvvisamente un'ondata di fiducia Jay stava per dire qualcos'altro forse sul suo scherzo fallito forse sul suo paziente inaspettato ma Giulia aveva già deciso come si dice se il fienile brucia brucia anche la casa non mi sbaglio Giulia era improvvisamente decisa mia madre si chiama Mila notò che il dottore era improvvisamente impallidito e che le sue mani tremavano convulsamente e sembra che lei si ricordi di lei aggiunse non senza piacere anche l'aquila nella scatola era silenziosa e guardava con diffidenza la ragazza e il dottore Mila Jay ripetè a malapena udibile sì Giulia cercò nello zaino e tirò fuori una piccola foto di sua madre da sotto la custodia del telefono era la sua foto preferita qui era ritratta quasi subito dopo il parto era una fortuna che Giulia la portasse sempre con sé qui aveva più o meno l'età che Jay ricordava poco più tardi la donna mostrò la foto al medico eccola qui la mia mamma Jay guardò la foto per un paio di minuti rimase a fissare il volto della ragazzina poi il suo viso ebbe un altro crampo che non si preoccupò nemmeno di nascondere e Giulia benché fosse piuttosto giovane e conoscesse poco l'amore capì all'improvviso quali sentimenti stavano lacerando quell'uomo amore sicuramente amore desiderio sfiducia riconoscimento dubbio ecco perché lui l'aveva guardata in modo così strano nel corridoio per la madre e i nonni gli ricordava il padre ma per il padre sembrava molto simile alla madre conoscevo quella ragazza confermò dolcemente e me la ricordo molto bene Mila Mila improvvisamente un pensiero amaro mi attraversò la mente si può davvero fare una cosa del genere no è innaturale il pensiero morì non completamente maturato si ricordava bene di questa ragazza anzi di più e anche se non conosceva la donna che era ora poteva essere certo che non stesse facendo nulla di simile non poteva tramare usare un bambino non era certo lo stile di una ragazza vivace sicura di sé e consapevole che voleva tutto per sé non rifiutava se qualcuno le dava una mano e le offriva qualcosa di vantaggioso ma non chiedeva mai nulla soprattutto a chi era più influente di lei le veniva offerto tutto da sola e dava tutto da sola donna orgogliosa siediti improvvisamente Jay annui passando a un tono meno formale e Giulia si sedette Jay preparò il tè da una bustina e versò del whisky per sé in assoluto silenzio non poteva essere cambiata così tanto la ragazza che amava e poi perché ora Jay aveva osservato Mila per tutti questi anni da lontano non avvicinandosi quasi mai sapeva che stava bene ma non c'era motivo di irrompere nella sua vita con una notizia improvvisa come questa sarebbe stato giustificato dieci anni fa quando aveva appena lasciato la nicchia dell'insegnamento e cominciava a dichiararsi un chirurgo di talento quando fama e denaro erano appena arrivati era il momento giusto per presentarsi con una bambina in braccio e affermare che era sua figlia ma ora erano passati diciassette anni Mila aveva tutto quello che aveva il suo amante di lunga data se non di più era sempre stata una donna autosufficiente e Jay capiva perché non voleva parlargli di sua figlia non voleva o non poteva che dire di questa ragazza una ragazza di diciassette anni dai capelli rossi che si erge e si fa coraggio come un gattino selvatico di fronte a un grosso felino la sua coda rossa sta per alzarsi in segno di eccitazione o di diffidenza i bambini sono spesso intransigenti e questa Julia pur avendo diciassette anni è diretta e sincera come può esserlo una ragazzina poteva arrivare da lui con una notizia del genere senza alcun indizio eppure ho detto la verità Jay parlò a bassa voce tenendo ancora in mano la fotografia della donna che aveva amato da bambino febbre tifoidea diagnosticata come clinicamente sterile se sai cos'è non parlarmi come se fossi una bambina disse Julia indignata so cos'è l'infertilità e so anche che non si può diagnosticare l'infertilità a livello biochimico con una garanzia del 100% dichiarò improvvisamente Julia incrociando le braccia sul petto con fare bellicoso ma le sue guance erano leggermente arrossate l'infertilità viene diagnosticata dopo tre anni di infertilità quindi non è un argomento convincente Julia espirò un po' si calmò e apparentemente imbarazzata da questa conversazione cambiò frettolosamente argomento mi dispiace di averti scaricato tutto questo addosso in questo modo mi è sfuggito certo che non lo farei a volte una bella scrollata non fa male il dottore scosse la testa quindi pensi di essere mia figlia non nego che io e Mila ci conosciamo mi ricordo molto bene di lei allora la sua infertilità è l'unico motivo per cui non mi crede Julia lo interruppe era preoccupata e dubbiosa e all'improvviso le era venuto tutto così facile sua madre l'aveva avvertita che suo padre avrebbe potuto avere dei dubbi e probabilmente se non le avesse creduto ora avrebbe potuto chiedere un test di paternità il che sarebbe stato molto sensato ma era una tale sciocchezza se alla fine riuscivano a far funzionare la cosa suppongo di sì Jay annui bruscamente e Julia era raggiante con un sorriso soddisfatto Jay scosse la testa era identica a Mila aveva ottenuto ciò che voleva aveva stupito tutti e ora sorrideva e come aveva detto di non essere una bambina ma solo sua madre quando il preside dell'università dove Mila e Jay si erano incontrati aveva parlato con loro molto tempo prima questa ragazza forse sua figlia sembrava molto coraggiosa e determinata Jay non avrebbe potuto risponderle con qualcosa di meno ok non posso promettere nulla ma puoi organizzare un incontro con tua madre sembra che io e lei abbiamo bisogno di parlare seriamente prima la testa Julia disse improvvisamente e piegò le braccia ostinatamente sul petto cosa Jay rimase sbalordito prima l'aquila ripete e l'uccello sollevò leggermente la testa come se avesse capito che si stava parlando di lei sono tua figlia e tutto il resto ma sono prima di tutto una naturalista Julia annui all'aquila distesa sul tavolo che emise anch'essa un suono di indignazione è la mia pupilla con un'ala danneggiata bisogna fare qualcosa sì infatti Jay era d'accordo e le sue labbra sottili si allargarono in un leggero sorriso deve essere fatto ma un intervento del genere non può essere gratuito capisco Julia annui seriamente quanto costa beh un incontro con tua madre disse Jay e Julia strizzò gli occhi con sospetto farò tutto domani mattina porterò l'aquila alla clinica gli farò mettere una benda sterile sull'ala scriva l'indirizzo della clinica veterinaria e mi dia il suo numero di telefono ti chiamerò e ne parleremo parlerò con tua madre per sapere come stanno le cose e non finì la frase distolse lo sguardo e pensò a qualcosa di suo Giulia lo lasciò gentilmente fare aveva capito che non c'erano bambini e che non potevano essercene ma io continuo a non garantire nulla questo è chiaro intende l'aquila chiese Giulia perplessa o di me e della mamma sia l'aquila che te Jay chiarì stancamente sperando che la sua nuova figlia capisse Giulia lo dimostrò annui di nuovo gentilmente quella sera Jay tornò al suo appartamento con sentimenti contrastanti aveva 49 anni non era sposato non aveva quello che pensava fosse un figlio aveva solo la sua attività preferita nella quale Jay aveva messo tutta la sua vita la ragione di ciò fu facilmente individuata da uno psicologo che si era precipitato sul tavolo operatorio di un chirurgo con protesi ossee e che Jay aveva osservato per qualche tempo lei signore probabilmente fa parte di una razza rara di uomini disse a un certo punto durante un altro esame Jay che era abituato al fatto che le persone potessero comportarsi in modo molto diverso tra le mura dell'ospedale si limitò a sorridere con indulgenza sì e perché lei è un uomo tutto d'un pezzo lo psicologo concluse con piacere e probabilmente è per questo che non si sposa non ha nemmeno un gatto e si occupa solo di noi dei suoi figli dei suoi pazienti questa bambina paziente sbadigliò profondamente addormentandosi dopo una dose di anestetico perché lei la sua unica e sola era rimasta da qualche parte nel passato si può dire che avesse ragione Mila una giovane studentessa di 12 anni più giovane di lui era l'unica donna che Jay avesse mai amato era una sensazione così forte e struggente era apparsa nella sua vita all'improvviso come un crepuscolo autunnale con gli stessi capelli del colore del rame freddo con gli occhi verdi chiari e attenti come le ultime foglie prima dell'arrivo dell'autunno serio colto proteso verso alti ideali ma gentile premuroso tranquillo e affettuoso come l'ultima tiepida brezza d'autunno molti dicono che l'amore è estate una stagione calda e tiepida ma per Jay era autunno un autunno caldo precoce e triste pieno di colori vivaci ma che svaniscono rapidamente si avvicinarono poco a poco le conversazioni si allungarono c'erano sempre più progetti comuni lui trovò centinaia di motivi per lasciarla dopo le lezioni lei si rivolgeva a lui in cerca di aiuto naturalmente l'ombra della minaccia dell'apertura del loro legame e di tutto ciò che ne sarebbe potuto seguire incombeva costantemente passava li toccava con una mano morta e fredda e per un istante sembrò che non se ne sarebbe fatto nulla ma l'istante passò e tutto sembrò di nuovo luminoso e solare e affidabile Jay l'amava strettamente e impotentemente come non aveva mai amato nessuno prima o dopo Mila era l'unica donna che voleva nella sua vita e quando il suo amico Boris direttore part time dell'istituto gli aveva accennato che avrebbero dovuto interrompere le cose per un po' il primo pensiero di Jay fu per lei la ragazza che poteva ancora avere tutto davanti a sé era così che funzionava la loro società se questa storia si fosse diffusa Mila avrebbe sofferto di più anche se Jay l'avesse sposata avrebbe potuto quando era partito su consiglio di un compagno non si erano promessi nulla gli occhi di Mila erano rossi ma non pianse davanti a lui Jay la abbracciò per l'ultima volta senza pretendere da lei alcuna promessa perché aveva vent'anni e avrebbe potuto trovare qualcun altro giovane non legato a cose terribili e complicate come la reputazione probabilmente anche lei stava pensando a qualcosa del genere probabilmente sognava di trovargli il tipo di donna che non avrebbe fatto pesare la sua reputazione e disse dolcemente era vero ti amo Mila anch'io ti amo mormorò debolmente Jay partì prima per una conferenza poi per la casa dei suoi genitori suo padre era morto e sua madre paralizzata dai reumatismi aveva bisogno dell'aiuto del suo unico figlio voleva scrivere delle lettere alla moglie ma si rese conto con orrore e vergogna di non ricordare il suo indirizzo postale e nemmeno quello di casa il suo telefono era stato smarrito insieme alla lista dei contatti e quando chiamò per informarsi su Boris scoprì che aveva lasciato il posto di direttore per dedicarsi all'endocrinologia e non poteva ottenere alcun dato all'epoca Mila aveva probabilmente già 22 anni e si era diplomata all'istituto un altro anno dopo morì sua madre Jay aveva sistemato le cose e stava per partire erano passati solo tre anni forse Mila non aveva ancora trovato qualcuno anche se non l'avesse trovato forse potevano ancora far funzionare le cose ma lui non l'aveva trovata nessuno all'istituto sapeva dove fosse andata e non avevano altri mezzi di contatto Jay lavorò come supplente per un paio d'anni poi tornò nella capitale iniziò a svilupparsi in chirurgia e già lì apprese che c'era una certa signora Mila in chirurgia aveva un figlio e lavorava sodo ottenendo gradualmente successo Jay non sapeva perché non riusciva a trovarla e a parlarle era passata molta acqua dal loro addio alla stazione ferroviaria Mila aveva già un figlio aveva il diritto di entrare nella sua vita così viveva da solo pensando a come sarebbero potute andare le cose e il bambino forse ora era solo una coincidenza o era un atto di autoipnosi ma Jay ha sempre voluto una bambina è un bambino molto speciale per il papà per gli uomini è facile amare le figlie una figlia è solo un'altra donna della famiglia non deve competere per l'attenzione della moglie come un ragazzo una figlia non ha bisogno di essere educata in modo rigido le figlie tendono a essere obbedienti e gentili il loro dolce cinguettio è così piacevole da ascoltare dopo una giornata di lavoro le figlie abbracciano accarezzano si prendono cura del benessere con una figlia un uomo si sente più libero che con un figlio non rischia di incontrare la propria imperfezione e gli è più facile diventare un buon padre per lei l'elenco dei vantaggi potrebbe continuare Mila ha sempre avuto una figlia con Jay la loro figlia come era possibile tornato a casa Jay tirò fuori dei vecchi documenti che aveva preso dall'appartamento dei suoi genitori e che non aveva ancora controllato da qualche parte qui dentro dovevano esserci i documenti della sua operazione di tanto tempo fa quando era giovane ai tempi la loro famiglia era stata evacuata niente acqua niente cibo e qualsiasi cosa ci fosse in tavola era ovviamente discutibile un paradiso per la febbre tifoidea tutta la famiglia soffrì per la mancanza di acqua e cibo di qualità il padre non si riprese mai dalla sua malattia polmonare l'immunità della madre era debole e doveva essere protetta dalla minima corrente d'aria anche Jay era molto giovane quando contrasse la febbre tifoidea quando miracolosamente e forse grazie alle preghiere della madre sopravvisse fino a diventare un giovane uomo a seguito della malattia gli fu diagnosticata un'infertilità clinica non passa vero? o forse sì Jay era un chirurgo ortopedico di primordine e conosceva tutti i disturbi muscoloscheletrici ma il sistema riproduttivo non era chiaramente la sua area di competenza avrei dovuto fare degli esami o consultare qualcuno anche se una questione così delicata non vuole entrare in inutili orecchie Boris proprio così quell'uomo lavorava ancora in endocrinologia e poteva benissimo fare qualche esame per scoprire cosa non andava nel suo amico se era sterile o meno dopo tutto pensando a questo Jay si era persino rallegrato no la dichiarazione della ragazza era seria ma prima di occuparsi di lei doveva farsi controllare e avrebbe dovuto vedere Mila non voglio trascinare la figlia in clinica per un test di paternità senza il permesso della madre a Mila potrebbe non piacere quindi qual era il suo piano? aiutare l'aquila portata da Giulia che bel nome aveva scelto Mila per la bambina quindi aiutare l'aquila farsi controllare e fare un test di paternità tuttavia incontrerà Mila e il test dovrà essere fatto di sicuro sarebbe una notizia se si scoprisse che è lui il padre di quella testarda ragazza dai capelli rossi quando la mattina dopo andò ad aiutare l'aquila Giulia era già lì a chiacchierare allegramente con il veterinario non accennò mai né a parole né a fatti a ciò che era successo ieri e solo fedelmente come la migliore assistente di sempre si aggirava nei paraggi porgendo uno strumento o un altro fu una vera scoperta per Jay quanto bene la ragazza conoscesse i nomi dei dispositivi medici che nome Jay sorrise terminando l'operazione e applicando la medicazione sterile un'aquila di mare è come operare qualcuno con il cognome morto o morente a proposito mia madre è pronta per la tua chiamata Giulia interruppe i suoi pensieri chiama quando vuoi e togliendosi i guanti uscì dalla sala operatoria come se non avesse detto qualcosa di così follemente importante a Jay Boris lo ricevette prontamente e non specificò la storia dell'improvvisa apparizione di sua figlia si limitò a chiedere se c'era modo di confermare o smentire la sua infertilità Boris come tutti i medici che hanno tatto non ha specificato la causa prescrisse una serie di esami e fece in modo che Jay li eseguisse lo stesso giorno i risultati dovevano aspettare per tutti quei giorni Jay rimase sulle spine Mila non aveva chiamato per prima non si aspettava che lo facesse solo una volta Giulia gli disse che l'aquila era stata mandata allo zoo per la riabilitazione e che poi avrebbero cercato di liberarla nella riserva qualche giorno dopo si sedette di nuovo nell'ufficio della sua amica eccitato come un giovane uomo prima di una visita dall'urologo cosa c'è disse Jay con impazienza guardando Boris digitare e leggere i risultati sta progettando una famiglia vuole sistemarsi entro i 50 anni Boris sorrise senza staccare gli occhi dai fogli temo che la mia moglie chirurgo non capirebbe Jay espirò e si asciugò il viso non mi crederesti se te lo dicessi ma ci provi mentre leggo i laboratori ti ricordi di Mila Mila Boris borbottò poi annui oh la tua Mila sì lei l'altro giorno è venuta a trovarmi una ragazza sua figlia ha detto che ero suo padre wow Boris si è preso una pausa dalla lettura dei giornali dopo questo e tu niente ho detto che era impossibile ma ho deciso di parlare con Mila ma prima mi faccio controllare il dottore scosse la testa e guardò il suo amico con maggiore serietà hai bisogno di me adesso quindi non vuoi sapere se puoi avere un figlio adesso ma non è che siano cose diverse Jay disse incerto certo disse Boris in tono amichevole e poi parlò il professionista che era in lui avevi circa trent'anni allora anno più anno meno a causa del tifo hai sviluppato il rachitismo tutti i tessuti del testicolo sono colpiti ma le sue singole parti sono particolarmente colpite a causa della malattia si sviluppa un'infertilità di questo tipo quanto più grave è il processo tanto più significativi sono gli sbalzi ormonali ma questo non accade spesso ma capita che si verifichi un rilascio speciale di ormoni che rendono possibile il concepimento è possibile rintracciarlo naturalmente e anche adesso ma piuttosto che spendere una fortuna per questo è meglio fare un test di paternità quindi Julia potrebbe essere mia figlia chiese Jay con cautela in linea di principio sì come in ogni altro caso del genere Boris allargò le mani o lo è o non lo è o sì o no ecco come Jay poteva diventare improvvisamente padre di una ragazza di 17 anni che cosa avrebbe fatto non sapeva nulla di bambini e anche se Julia gli piaceva più che altro poteva essere un buon padre per lei cosa ne avrebbe pensato Mila la situazione non sembrava molto bella da parte sua lo avrebbe voluto nella vita di sua figlia Julia aveva detto che la mamma era disposta a parlare con Jay ma cosa sarebbe successo se lei gli avesse gettato il tè in faccia dicendo che non lo voleva nella loro vita Jay non era sicuro di poterlo gestire ma ormai aveva quasi 50 anni non era un ragazzo e pensava di dover affrontare la situazione davvero uomo e comunque di cosa si trattava c'era molto molto in gioco una donna che aveva amato per tutta la vita e una bellissima bambina che poteva essere il loro figlio dio i nipoti poteva avere dei nipoti adesso Jay chiamò Mila appena uscito dalla clinica lei accettò di incontrarsi senza ulteriori indugi e nel giro di mezz'ora Jay la stava aspettando in un caffè vicino alla sua clinica Mila entrò come una splendida visione una donna incredibilmente curata bellissima in abito bianco con un trucco perfetto una pelle luminosa e una criniera di capelli ramati ordinatamente acconciati i suoi occhi verdi erano calmi e autoritari ogni suo passo leggero e sicuro Jay fissò questa giovane donna alla quale guardavano sia uomini che giovani e si sorprese di riconoscerla come la studentessa che era entrata così strettamente nella sua vita da essere impossibile da sradicare che gli aveva tolto il diritto di amare avvicinandosi al suo tavolo Mila gli sorrise con calma ciao Jay non c'era rabbia o odio in esso solo calma e dimensione Jay si alzò e allungò la mano per una stretta e Mila rispose con un leggero sorriso la sua mano era morbida ok signora Mila Jay sorrise sei bellissima disse spingendo indietro la sedia in modo che la donna potesse sedersi grazie annui lei Jay le mise davanti una tazza di tè un tè dolce con le fragole Rea lo adorava Jay si sentì sollevato quando la donna beve un sorso e sorrise soddisfatta allora hai deciso di parlare cosa ti passa per la testa Boris ha detto che potrei avere dei figli sbottò Mila sollevò un sopracciglio e l'uomo si affrettò a chiarire o meglio che avrei potuto in quel particolare momento te l'ho detto no? tifo lei annui e sorrise tristemente suppongo che i tuoi genitori non si siano mai ripresi mi dispiace se ne sono andati abbastanza giovani mamma ha passato un periodo particolarmente difficile dopo la morte di mio padre è un peccato che non abbia potuto conoscerli già Mila girò intorno alla parte superiore della tazza con un dito perfettamente curato cosa avete deciso per Julia? faremo un test di paternità Mila non voglio farti del male Dio quante sciocchezze lei sorrise e rise dolcemente voglio che sia tu a farlo mia figlia entra nella tua vita dopo 17 anni devi essere sicuro mi hai sempre capito bene Jay sorrise rilassato lo stesso che aveva conosciuto all'istituto non era cambiato molto era solo cresciuta era ancora educata e disponibile anche se non lo dava a vedere quando Jay se ne rese conto fu come se potesse respirare più facilmente e anche parlare con lei hai sempre pensato come un adulto sono sempre stato un adulto lei espirò figlia unica dei miei genitori e poi genitore unico lei stessa ha 20 anni sai non mi sono mai pentito di averla avuta l'unica cosa che mi ha fatto arrabbiare è che tu non abbia mai saputo di lei non lo so non abbiamo lavorato abbastanza o è stato il destino ma è successo e basta Mila scosse la testa e sorrise dolcemente vedrai e la amerai è meravigliosa ha preso il meglio di entrambe sì ho già notato qualcosa hai il mio mento non credi disse Jay strofinandosi pensieroso il mento e la tua testardaggine Mila rise e Jay rise con lei sentendosi terribilmente felice certo che Julia era sua figlia i due lo avevano scoperto quando avevano fatto il test ed erano venuti a ritirare i risultati Jay non poteva credere ai suoi occhi al 99% era il padre di questa ragazza brillante intelligente vivace e dai capelli rossi Julia non ne dubitò nemmeno per un secondo e quando Jay riuscì finalmente a controllare se stesso sorrise ampiamente te l'avevo detto dichiarò con orgoglio come mamma ho sempre ragione Jay sorrise scosse la testa ma non poteva evitare il sorriso felice che gli lacerava le labbra esattamente sempre ragione finalmente 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 c'era qualcuno nella sua vita qualcuno che le avrebbe dato un significato reale non fittizio come il lavoro non obbligatorio come la sua vita che lo rendeva responsabile di quella di qualcun altro ma leggero e sincero caldo e affidabile infine non si sentiva più solo e non si era mai considerato tale ma si rendeva conto che si era sempre ingannato Julia glielo aveva chiaramente dimostrato la sua presenza nella sua vita per un paio di settimane era stata sufficiente a far capire a Jay com'era davvero la vita una vita in cui si è amati in un modo completamente diverso dal semplice essere un buon medico bene ora i diritti del padre disse goffamente dovrei comprarti un gelato e probabilmente dovrei prendere una torta così finalmente potrò conoscere i tuoi nonni oh mi piacciono le torte e i gelati Julia sorrise accoccolandosi sotto il suo braccio si sedettero in un piccolo bar sul marciapiede non lontano dall'ospedale alcune persone li guardarono sorprese e Jay era quasi certo che qualcuno stesse anche forse scattando delle foto ma a lui non importava molto tutto tranne Mila e Julia lo preoccupava pochissimo Mila aveva ragione era stato facile innamorarsi di Julia probabilmente avrebbero avuto delle difficoltà in futuro e avrebbero avuto molto da recuperare molto da fare insieme come padre e figlia ma ora Jay era pronto per questo come sta il nostro amico pennuto sta benissimo Julia annui soddisfatta cercando di capire da quale parte del gelato iniziare la riserva e lo zoo mi hanno persino inviato un certificato di apprezzamento a quanto pare era il loro animale domestico ad essere volato via che stupido Julia disse Jay e la ragazza lo guardò negli ultimi giorni dal modo in cui abbiamo parlato prima e dopo il test e ora ho avuto sempre meno dubbi sei davvero mia figlia e sì stavo preparando quel discorso ha sorriso ti prego non ridere e capiscimi Julia annui seriamente quando era così seria diventava molto simile a sua madre ho 49 anni ora non sono stato tuo padre per tutti questi 17 anni ma sono molto grato che tu sia entrato nella mia vita tu e Mila e cercherò con tutte le mie forze di essere un buon padre ma non sono sicuro di riuscirci al primo colpo Jay Tossi non ho intenzione di fare un discorso sentimentale sui padri e sui figli è passato il tempo ma posso suggerire qualcosa di più interessante per iniziare papà tese la mano a Julia soci e amici Julia si illuminò con un sorriso aperto i suoi occhi verdi simili a quelli di Mila scintillavano di piacere orgoglio ed eccitazione e il suo mento volitivo esattamente come il suo si sollevò altezzoso quando Julia gli tese la mano e la strinse con fermezza e sicurezza soci e amici ma sai il suo sorriso divenne più calmo e gentile sono sicuro che ce la caveremo alla grande se ci impegniamo sarà una figlia di papà per la prima volta dopo 17 anni e proprio così la vecchiaia si avvicinava rapidamente e il treno sembrava essere partito Jay che era pronto a rassegnarsi a vivere una vita tranquilla e misurata priva di gioie umane e familiari si ritrovò improvvisamente padre di una bellissima ragazza Julia era capace oltre i suoi anni non poteva che essere fiero di lei e orgoglioso di vedere con quanta fiducia stava andando verso il suo obiettivo dopo tutto aveva preso le migliori qualità da lei e da Mila era vero che sua figlia era determinata a entrare in veterinaria Jay vorrebbe tanto dall'alto della sua improvvisa paternità che l'unica figlia continuasse il suo lavoro che diventasse medico chirurgo ma Julia dichiarò un fermo rifiuto e sebbene accettasse volentieri un lavoro part time nell'ospedale accanto al padre che le consentiva persino di assistere ad alcune operazioni non particolarmente complicate non aveva intenzione di cambiare la strada scelta osservava con interesse come si svolgevano le operazioni e gli esami ma i suoi occhi si illuminavano davvero solo quando parlava dei suoi progetti mostrava le foto del sito web del loro circolo raccontava come era andata la prossima escursione o il lavoro di volontariato non è possibile cambiarla Mila glielo aveva detto una volta quando erano andati tutti e tre al cinema era un raro giorno in cui entrambi i genitori avevano un fine settimana libero e Giulia per bontà d'animo aveva proposto di andare tutti insieme il padre e la madre non avevano trovato alcun motivo per rifiutare la ragazza si fece da parte per comprare popcorn e succhi di frutta per il cinema i suoi genitori rimasero soli anch'io speravo che avrebbe seguito le mie orme le ho regalato giocattoli su ospedali e farmacie le ho letto storie di dottori e ho persino comprato delle barbi dottore Mila ridacchiava era comprensiva nei confronti dei miei hobby ma preferiva sempre storie di animali e passeggiate nei boschi così ho deciso che avrei dovuto rispettare anche quello che piaceva a lei la medicina veterinaria non è la peggiore vale la pena di dire che non sono zoologi o canini già Jay espirò sentendosi in imbarazzo come un ragazzo davanti a questa donna bella e sicura di sé voglio solo fare qualcosa di grande per lei ma come ogni genitore anche lui vuole per la sua bambina un percorso facile e pieno di rose verso la fama Mila lo guardò con un sorriso leggermente condiscendente ma lei stesso deve sapere che non è così facile Giulia andrà per la sua strada non preoccuparti tra una decina d'anni lo accetterai e lo amerai credo di voler essere solo un buon padre mormorò Jay incerto e darle il meglio di tutto ora che ne ho l'opportunità è meglio non darle il meglio ma lasciarle quello che vuole Jay rimase in silenzio per un po' Mila gli permise gentilmente di considerare ciò che lei stessa aveva capito solo di recente naturalmente quando si è percorsa la strada tortuosa del successo e della ricchezza si vuole rendere più facile per il proprio figlio essere migliore di te ma meno stressante Mila probabilmente avrebbe fatto proprio questo se non fosse stato per i suoi genitori Ray e Sandra rimproveravano severamente la figlia quando comprava qualcosa di extra o di non necessario solo perché era bello loro conoscevano il valore del denaro meglio di lei e avrebbero cresciuto la nipote senza bisogno di nulla nella giatezza ma Giulia determinata e testarda avrebbe dovuto sapere che aveva grandi opportunità grazie a sua madre ma che spettava a lei decidere chi sarebbe diventata e come le avrebbe utilizzate hai ragione Jay si disse improvvisamente d'accordo questo non cambia i miei sentimenti per lei ovviamente amerò mia figlia in ogni modo possibile anche se è una conduttrice di cani con coraggio spremette l'ultima parola e sì Mila cosa ho detto a Giulia che prima di diventare padre e figlia potremmo provare a diventare soci e amici con lei lei era d'accordo Jay barcollò un po' sotto lo sguardo tenace degli occhi verdi della donna che amava tanto quindi ora forse anche io e te possiamo essere amici prima di provare a esserlo di nuovo non aveva finito ma un sorriso sornione da volpe si era già allungato sul volto di Mila possiamo mormorò chiama Giulia volpe ma è lei stessa una volpe Jay pensò con inaspettato divertimento e sorrise alla donna un anno dopo Giulia si laureò con l'ode un punteggio elevato un certificato di formazione supplementare nel club dei naturalisti junior diverse lettere di raccomandazione da parte di riserve naturali organizzazioni di volontariato e alcuni buoni veterinari elogi sono arrivati anche da un noto chirurgo e dal direttore della clinica in cui lavorava la signora Mila tutto ciò è bastato perché l'accademia la accogliesse a braccia aperte e Giulia fosse entusiasta di intraprendere il prossimo gradino della scala che l'avrebbe portata al suo sogno per altri due mesi interi la notizia più chiacchierata sulla stampa e sui social media fu che il famoso chirurgo ortopedico Jay Bennett stava apparentemente avendo una torrida relazione con l'altrettanto famosa chirurga Mila si parlava addirittura di un figlio insieme oh mio dio ma alla nuova famiglia non importava erano semplicemente infinitamente felici